Va bene, ci siamo. Allora, buongiorno a tutti. Do il benvenuto a questa tavola rotonda che si svolge in web su l'antropologia visuale accanto e oltre il film etnografico. Questo è un'occasione di approfondimento e di riflessione su temi della visione e su temi legati appunto alla cultura delle immagini viste per il tramite delle scienze sociali e in particolare dell'antropologia culturale. Io sono Felice Tiragallo, sono un antropologo che lavora all'Università di Cagliari, mi occupo di varie cose, fra cui appunto anche di antropologia visuale. Sono particolarmente contento di fare un po' da coordinatore a questa tavola rotonda che si integra all'interno appunto del programma del Festival del Cinema del Reale Israel 2020 che sta avendo, a quanto abbiamo potuto constatare, un grande riscontro di interesse e di seguito. Anche per questo sono particolarmente contento, insieme ai partecipanti a questo incontro, di essere parte appunto di questo evento. Ringrazio l'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna che ha organizzato Israel e che è sotto il quale appunto un ente sotto il quale da decenni, da decenni, si svolge un'importante, credo, attività a livello nazionale e internazionale di sostegno e di valorizzazione appunto dell'antropologia visiva e del cinema etnografico. Ringrazio in particolare gli organizzatori, tutto lo staff del Festival del Cinema del Reale e il suo direttore Alessandro Stellino di averci dato questa opportunità di confronto. L'occasione di oggi è un tentativo di riflessione, come alcuni di voi avranno già visto, sulla dimensione attuale della produzione, circolazione e consumo di immagini, per dirlo in termini, chiamiamolo così, d'economia politica e in termini marziani, basato sulla constatazione che il mondo digitale della produzione e circolazione delle immagini ci fa vivere ormai una dimensione inedita, consolidata da piuttosto da parecchio tempo, in cui il vedere, il farsi vedere, il produrre immagini della realtà sembrano tutte esperienze che si collocano in un dominio globale assai mutato e quindi anche per le scienze umane e quindi anche per l'antropologia il modo di raccontare visivamente appunto altri spazi, altre vite, altre comunità sono pratiche, esperienze appunto anche di ricerca, esperienze come dire culturali, anche emozionali, personali, che oggettivamente stanno cambiando, stanno cambiando nella dimensione quindi di innanzitutto individuare nuovi approcci al tema generale della visione, come dire allo studio della visione come dimensione importante di vita di tutte le culture ma anche modi e mutamenti di approcci metodologici allo studio delle culture e questo naturalmente ci dice in pratica che è necessaria, ecco a nostro parere, una riflessione che tiene conto del fatto che abbiamo accumulato riguardo alla realtà una grande esperienza in campo cinematografico, in campo cioè filmico e che quindi il film rimane uno degli elementi sicuramente come dire fondanti, importanti per esplorare le altre realtà culturali vicine e distante rispetto a quelle di chi prova ad osservarli e a decifrarli. Ma questa stessa consapevolezza di cui parlavo prima ci fa anche ritenere che sia importante dare uno sguardo molto ma molto attento su tutte quelle realtà, su tutte quelle dimensioni, su tutte quelle esperienze che maturano intorno alla visione e che sono collegati a tanti modi nuovi portati anche dalle nuove tecnologie di approcciarsi al tema del visivo e al vivere le visioni. Parlo naturalmente anche di dimensioni come quelle della realtà aumentata, della realtà virtuale, dell'uso di la produzione di visioni a 360 gradi oppure di realtà mix, di realtà mescolata. Per discutere di queste cose noi abbiamo pensato di radunarci insomma fra studiosi che fra gli altri appunto hanno una particolare interesse e attenzione su questi temi. Noi lavoreremo in questa tavola rotonda sulla base delle sollecitazioni che ci verranno in primo luogo soprattutto da un'introduzione dovuta a Paolo Favero. Ora introdurrò Paolo Favero, parlerò poi brevemente dell'esperienza del profilo di tutti i partecipanti Rossella Ragazzi, Greca Meloni, Vincenzo Esposito e Francesco Marano, dopodiché darò la parola a Paolo per introdurre quella che diciamo così la sua lecture, chiamiamola così, la sua comunicazione principale, il cui titolo a nostro parere è molto evocativo e che è appunto l'immagine etnografica in un contesto post digitale. Quindi ringrazio di nuovo tutti i presenti e passo appunto a questa breve introduzione, chiamiamola biografica. Paolo Favero è attualmente professore associato di culture visive all'Università di Anversa in Belgio, dove dirige il Master di Film Studies in Visual Culture. Tra i suoi vari incarichi è co-direttore del Network di Antropologia Visiva dell'Associazione Europea di Antropologia Sociale nel Vaneasa e della sezione delle culture visive dell'Associazione Europea di Ricerca sulla comunicazione. Dunque Paolo ha avuto vari incarichi di docenza a Stoccolma, Londra e da altre parti e ha un interesse dominante, che è quello appunto centrale appunto direi un po' nel suo lavoro, che è il ruolo delle immagini nella vita degli umani e il suo campo di ricerca principale è l'India. Lui ha lavorato appunto su diversi piani, ha prodotto diversi materiali visivi, moltissime pubblicazioni, fra cui segnalo in particolare un libro del 2018, The Present Image, che in qualche misura forse uno dei primi passi, uno dei momenti di sintesi importanti del suo lavoro intorno alla nozione appunto di immagine come presenza. Su questo tema, sul tema del present, penso che ci saranno diverse cose da dire. Rossella Ragazzi. Rossella Ragazzi è professoressa associata all'UMAC, all'Università, all'University Museum of the Arctic, University of Norway e a Tromso, è un membro di importanti organismi di ricerca antropologica visiva come il NAFA, il Comité du Film Etnographique e la Commission for Visual Anthropology. I terreni di ricerca sono l'infanzia e gli istituti educativi, Rossella si occupa di queste cose, si occupa di mobilità e migrazioni, si occupa di cinema transculturale e in generale del tema dei patrimoni culturali. Rossella, oltre all'insegnamento, a cui si dedica con estrema passione, fra l'altro è stata nostra a Cagliari, è stata visiting professor in un memorabile incontro di alcuni anni fa, svolge un'intensa attività saggistica, infatti fra le sue cose spicca la traduzione, forse del principale appunto libro di David McDougall, almeno quello principale, quello che uscì a suo tempo, che è Transcultural Cinema. È stato tradotto da lei ed è stato pubblicato per appunto per i tipi dell'ISRE, dell'Istituto Etnografico. Passo poi a Greca, Greca Meloni, studia presso l'Università di Vienna nel dottorato di etnografia europea, si è laureata a Cagliari con noi e lavora appunto a Vienna dove persegue praticamente ultimo il suo percorso di ricerca antropologica e dove però dove svolge anche un'intensa attività come docente di antropologia visuale. È molto vicina al nostro, come dire, alla vicenda appunto dell'Ateneo di Cagliari, quindi siamo molto contenti di averla qui. I suoi terreni di ricerca sono favoriti in antropologia, sono il rapporto uomo-natura, la dimensione antropologica dell'allevamento, diciamo, delle api legate appunto all'agricoltura. L'apicoltura è un tema di ricerca importante collegato appunto ai suoi interessi sulla dimensione dei saperi umani connessi al rapporto appunto con l'alterità dell'umano, insomma. Ha partecipato a vari congressi internazionali e ha inaugurato anche il nostro primo ciclo di incontri di etnografia visiva promossi all'Università di Cagliari. Vincenzo Esposito è un professore associato appunto della Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Studi di Salerno, insegna antropologia culturale nel corso di laurea di filosofia, è membro del direttivo della SIAC e poi è anche responsabile scientifico e direttore in pratica del laboratorio di antropologia Annabella Rossi. Ha varie forme di consulenza e da anni studia vari aspetti della ritualità e della vita religiosa nel mezzogiorno italiano, privilegiando sia aspetti della storia degli studi sia i mutamenti culturali del presente in questa dimensione. Da sempre ha applicato Vincenzo un sistematico interesse alle culture visive sia ai metodi visivi di indagine, attuandosi sia ricerche filmiche che fotografiche e tra l'altro, fra le altre cose voglio notare il fatto che è stato anche uno degli valorizzatori, estimatori, ha fatto una riflessione e continua a fare una riflessione importante sull'eredità scientifica di Ernesto De Martino e poi dei suoi discepoli, fra cui appunto la stessa Annabella Rossi. Per concludere, Francesco Marano è un professore appunto associato all'Università della Basilicata, dove insegna etnografia antropologia visuale e antropologia dell'alimentazione. I campi di ricerca di Francesco sono l'antropologia visuale, le relazioni fra antropologia e arte contemporanea e appunto ha anche un interesse specifico per l'antropologia dell'alimentazione e le identità culturali. È direttore di una nota importante, apprezzata rivista di antropologia che è visual etnography e ha una nutrita produzione scientifica che è composta da testi e da film. Fra i testi notiamo camera etnografica, il film etnografico in Italia, poi antropologia di una persona e poi l'antropologo come artista. Ho fatto rapidamente queste mini biografie per semplicemente per collocare come dire la giornata di oggi e per focalizzarla intorno a un come dire intorno al campo di discussione più aperto possibile sul tema dell'immagine che penso sia appunto un terreno comune di convergenza e di incontro di tutti questi interessi. D'accordo? Ultimata questa, come dire, questa presentazione sono veramente contento di cedere la parola a Paolo, a Paolo Favero, il quale ci proporrà praticamente le sue piste di riflessioni sul tema del rapporto appunto fra scienze umane, antropologia e culture visive, dimensione della visione. Grazie, grazie a Paolo, prego. Grazie Felice per l'invito e grazie a tutti, mi sentite bene? Giunge chiaro? Devo condividere il mio schermo che adesso spero voi riusciate a vedere. Avete una pagina nera col mio nome in fondo? Sì. Perfetto. Sì, no, grazie, sono felice e anche molto molto onorato da poter avere questi minuti per condividere un po' di riflessioni sull'immagine etnografica. La presentazione che ho preparato, cercando di vedere il tempo, la presentazione che ho preparato risponde un po' all'invito soprattutto di Felice di ritornare un po' sul lavoro che mai ho interrotto di fare su realtà virtuale o meglio su immagini immersive, su immagini tonde, sullo scenario di immagini a 360, realtà aumentata, espansa, la possiamo chiamare in molti modi, e ho cercato di prepararlo a cavallo fra teoria e pratica. Fondamentalmente è a cavallo tra il nuovo e il vecchio, che è un po' la mia tematica base, cioè di capire qual è la novità che arriva con la visualità digitale, ma quali sono anche le tracce di continuità col passato. Per cui comincerò con teoria e cerco di arrivare alla pratica. Un disclaimer, scusatemi per l'italiano, perché non sono abituato a utilizzarlo in contesti di lavoro, per cui se ogni tanto non trovo le parole, soprattutto che i miei PowerPoint sono lasciati tutti in inglese comunque, perché risulta un po' più facile fare. Allora, non so se riconoscete questo signore qua, o questi signori meglio ancora, Sir Edmund Hillary e Tenzing Norbu, sono le due prime persone che hanno scalato il Mount Everest, credo nel 54, attorno a quell'epoca là. Alla domanda perché scalare il Mount Everest, Hillary in un'intervista disse beh, perché sta là. Questa è la risposta che io continuo a dare da un po' di anni a questa parte sul perché entrare sempre più in profondità sulla questione della visualità digitale, sull'utilizzo, l'incorporazione di tecnologie emergenti, immagini digitali, nella ricerca etnografica, antropologica, cosa che oggi risulta abbastanza scontata, ma che 15 anni fa alcuni di voi si ricordano quando, io mi ricordo quando cominciai col documentario interattivo, la domanda era sempre ma perché dobbiamo sperimentare? Non ha senso, è una pratica vuota. Però era il Mount Everest, stava là, stava davanti a noi ed era inevitabile che lo volessimo seguire. Ma... Non fidatevi di ciò che vi dice il vostro GPS ed è il caso di una signora canadese che è finita nel fiume con la macchina. Io sono una delle prede costanti di questa cosa, nel senso che sbaglio strada costantemente, causa un ritardo di flusso di informazione del mio cellulare. Ma oggi più che mai non possiamo evitare di entrare nel terreno della visualità digitale, visto che, e qui citando da Belting, veramente ha colonizzato i nostri corpi. Siamo più che mai in una costante interazione, copresenza, col contesto digitale, nelle nostre vite quotidiane. È un concetto che era stato anticipato da John Peters nel 1997 sui studi sulle immagini satellitari. Lui diceva viviamo costantemente in bifocalità, cioè con un rapporto diretto tramite la nostra percezione, col mondo che abbiamo di fronte a noi, ma anche costantemente con la sua mediazione introdotta soprattutto dai mass media. Adesso non siamo più nell'epoca dei mass media, ma dei personal media. E questo è un concetto che si ritrova da molti, da Belting, con la colonizzazione del corpo, ma anche col concetto di McLuhan dell'estensione. E basta guardare alle nostre vite quotidiane oggi. Scott McQuarrie scrive che il dominio pubblico oggi più che mai emerge in una complessa interazione di spazi materiali e immateriali. Le nostre città sono coperte di un livello di connettività digitale che non ci risulta visibile, ma che come nel caso della signora che è finita nel fiume seguendo il GPS, fanno parte del nostro modo di stare nel mondo. Io applico questo concetto fenomenologico, parole di Merleau-Ponty, applicandolo nel contesto delle tecnologie emergenti. A destra, in fondo, questo potrebbe interessare Rossella se li conosce, l'Istituto di Design di Oslo, esperimenti artistici sulla misurazione della presenza dei wifi nella città. Solo guardare le heat maps di dove vi è più segnale di internet, dove vi è più wifi, già rivela delle divisioni di classe, già ci rivela un livello di accessibilità alla città. Per cui non solo noi come cittadini viviamo costantemente in una sorta di dialettica tra il mediato e il non mediato, ma anche come ricercatori tutti questi spazi sono spazi che sono a nostra disposizione per poter condurre ricerca. Allora, il mio interesse specifico, però... Avete una copertura sopra di Ecology? Vedete il titolo intero di Ecology? Ah, ok. Sì, sì, si vede. Perché ho lo screen sharing, il reminder. Il mio interesse è ovviamente però nel campo del visivo, come diceva Felice prima, un interesse ho avuto costantemente nella mia vita ed è sull'immagine, che poi ho imparato ad ampliare al di là anche del contesto puramente visivo, ma quello che io chiamo l'ecologia delle immagini presenti, con presente intendo due cose, intendo le immagini del presente di oggi, ma anche questo concetto che poi andrò a approfondire, l'immagine come presenza, è un paesaggio estremamente ampio e mutabile nel quale sopraggiungono tantissimi attori, nel senso che le immagini sono supportate più che mai da un giocattolino che abbiamo tutti in tasca, il cellulare, ci arrivano in una quantità di formati diversi, con possibilità di immersione, mescolando già sullo stesso schermo ciò che è reale e ciò che non lo è, creando nuovi allacci con la materialità, penso alla pratica della stampa in 3D, ma soprattutto rendendo visibile ciò che prima era visibile forse solo nel retro delle foto messe negli album di famiglia, comunità, tempi, orari, tutte le nostre immagini una volta caricate su un contesto digitale sono taggate con metadata di natura geospaziale, temporale, hashtags, ads, creano una comunità, per cui mi ricordo io ho avuto questo dibattito con Danny Miller, il quale sostiene che per studiare le immagini oggi in Facebook non è necessario sapere nulla delle immagini, perché è tutta una questione di informazione testuale, per parte ha ragione, nel senso una larga parte di ciò che un'immagine porta con sé è iscritta a un livello di non visibilità accessibile quando andiamo a capire il funzionamento dell'algoritmo, che è l'elefante nella stanza, che pochi di noi se ne occupano, io ho cominciato con una collega a lavorare un po' su quella questione, ma dall'altro lato c'è un lato che invece è molto visibile, come l'algoritmo tramuta informazione per chi la vede, e di nuovo comunità si aggregano attorno alle foto su Facebook, Flickr e Instagram, quello che è, per cui analizzare le immagini per noi oggi nel loro movimento digitale vuol dire sapere anche prendere in considerazione questa nebulosa di informazione, ma anche ritornare sui principi dell'immagine. Il sorriso del mio amico Ali è sempre pur un pezzo di informazione su una fotografia, anche se impacchettato da un algoritmo. Insomma, il paesaggio che ci si propone di immagini mette le immagini anche in un ruolo nuovo. nella mia opinione le immagini oggi fanno molto di più che non solo illustrare, documentare o decorare soprattutto la nostra ricerca, un classico limite dell'antropologia, di tutte le scienze sociali, di avere sempre utilizzato. Ovviamente il cinema etnografico si propone con un canale a parte, ma nella pubblicazione, per esempio, di un libro, di un articolo, la didascalia, il testo, hanno sempre creato una sorta di prigione dell'immagine, privandola della sua polisemia. Perché ci lavoriamo con le immagini? Perché sono polisemiche? Perché ci aprono uno spazio che tra l'altro non è solo cognitivo, ma anche fisico. David McDougall diceva che sono the pathway to the senses, no? Sono il, come si dice, the pathway? Sentieri. I sentieri per gli altri sensi. Per cui cosa ne facciamo oggi? Allora, la mia posizione è quella che dobbiamo imparare a fare delle domande un po' più intelligenti. Continuare a perdere tempo sulla distinzione tra il digitale e l'analogico oggi ha molto poco senso, anche perché molte delle immagini che circolano in un contesto digitale sono analogiche, sono digitalizzate. La distinzione oggi non è più rilevante. Quello che invece rimane rilevante è il modo in cui le immagini vengono a noi. E questo è ovvio. Così ogni tanto riguardo i dati. Questo è un dato vecchio che ho preso nel 2012, dove si è calcolato che negli ultimi sei mesi YouTube aveva mandato in onda più ore di materiale di quanto avesse fatto i tre principali canali nazionali americani durante tutta la loro storia di 60 anni. Cioè la quantità di materiale che circola è impressionante. Nel 2020 sono state prese 1.4 triliardi di fotografie. C'è questa sorta di, si è parlato molto in termini di ubiquità delle immagini, sono ovunque e vengono prese molto rapidamente, ma l'utilizzo che ne facciamo qual è? Nel senso della quantità di immagini che prendiamo con un cellulare, depositiamo sulla cloud, sono poche le immagini che poi andiamo comunque ad utilizzare. Per cui c'è una costante tensione fra questioni di qualità e quantità. Scott McQuire scrive che a fronte di tutta questa ubiquità, comunque alla fin dei conti per chi guarda una foto, la foto è rimasta più o meno la stessa cosa. Cioè quando noi ci mettiamo di fronte a una foto, comunque l'affrontiamo come avremmo affrontato un'immagine analogica, con debite, differenze, dato supporti materiali, eccetera, eccetera. Un ragionamento che fa, per cui la questione della distribuzione del viaggio delle immagini secondo me è più interessante che non il cambiamento della qualità delle immagini, su quale si è ragionato molto e si continua a ragionare. E spesso si è fatto anche delle approssimazioni un po' curiose, nel senso che la rivoluzione del digitale è stata affrontata molto spesso analizzando soprattutto il passaggio dal film, la chimica, l'elettronica. Però se poi andiamo a vedere il funzionamento di una lente è rimasto fondamentalmente più o meno lo stesso, con tutti i cambiamenti, il fotografo anche si è adattato, per cui è una dialettica tra continuità e cambiamento che andrebbe affrontata in più profondità. Però se torniamo sulla questione del movimento delle foto, quello che soprattutto i cellulari hanno creato è questo senso di copresenza che Mizzuno Ito, Mizzucco Ito, ricercatrice californiana, aveva affrontato nel 2005 guardando i primi telefoni Nokia e il servizio MMS e aveva lei assieme a un Hoskinen, un finlandese, avevano abbozzato proprio questo anticipo di come avremmo cominciato a vivere in una copresenza visiva. Questo è un concetto che ovviamente ha del nuovo, ma ha anche del vecchio. La foto del mio cagnolino messo sullo screensaver che entra nella mia tasca, come affettività e funzionalità non si distingue molto dal pendente col ritratto fotografico, il cameo che veniva utilizzato nel passato. Cioè noi abbiamo sempre vissuto, questa è una bellissima frase di Melinda Hingson, abbiamo sempre vissuto le nostre vite in compagnia delle immagini e oggi continuiamo a farlo sempre di più, possibilmente. Sempre di più mediano il nostro accesso al mondo e sempre più fanno parte del nostro modo di essere nel mondo. Mi seguite fin qua? Sì, sì, sì. Lucido. Fermatemi pure se manca qualche pezzo. Cerco di abbozzare, bruciare questi primi 10-15 minuti con un po' di piattaforma sull'immagine digitale, perché prima di affrontare l'etnograficità dell'immagine digitale dobbiamo capire cosa parliamo con l'immagine in generale. Felice faceva un riferimento a The Present Image. The Present Image è un libro dove io ho cercato proprio di andare in quattro capitoli a vedere quattro forme dominanti di immagini nel contesto presente. Il primo titolo di questo libro era, credo, A World in Pixels o qualcosa lì. Finché a un certo punto, giocando sul titolo, ho capito che del digitale non me ne importava niente. Quello che mi importa è l'immagine, è l'immagine come si colloca nella vita agli esseri umani. L'ultimo capitolo di quel libro è sulla morte di mio padre, dove guardo all'utilizzo della fotografia e del image making nel senso lato. Utilizzo quel termine perché oggi distinguere video, fotografia, specie quando si utilizza uno smartphone come strumento diventa abbastanza ridondante. E lì guardo proprio a questa interazione costante, quotidiana delle immagini nel mio affrontare la processiva morte di mio padre. Questione che è parzialmente digitale, parzialmente no. Semplicemente ho sviluppato questa sensazione che non è la tematica interessante. Quello che è interessante per me è invece andare a vedere la maniera in cui le immagini si collocano nella nostra vita come attori, come agenti. Ovviamente una posizione molto ispirata dalla fenomenologia, dai lavori di Alfred Gell, W.J.T. Mitchell, eccetera, eccetera, Belting. Però entrambi questi libri, è appena uscito il libro nuovo che si chiama Image Making India, che guarda esperienze di image makers e artisti in India proprio dal punto di vista dell'utilizzo dell'immagine come strumento per intervenzione sociale, per politica. E questa è la cosa che io credo oggi l'immagine digitale ci obbliga in qualche modo a fare, date le trasformazioni di cui parlavo prima. Più che mai ci guidano nella nostra vita, ci interfacciamo con le mappe, con processi di visualizzazione, sono pur sempre immagini. E le immagini si pongono proprio come coattori, per utilizzare il termine di Latour, nella nostra vita. Sono strettamente relazionali, come aveva anticipato Burriot nei lavori dell'arte. Burriot già negli anni 90 diceva che l'arte ha sempre meno a che fare con l'oggetto artistico in quanto tale, ma con la relazione che allaccia con lo spettatore. E questo crea questa sorta di passaggio un po' tensivo tra la rappresentazione e la presenza. Un modo classico di pensare alle immagini, e questo ha caratterizzato il lavoro di molta antropologia visiva, non tutta ovviamente, è quello di utilizzare gli strumenti visivi come una forma di rappresentazione. Il film etnografico spesso è una comunicazione di un sapere acquisito. Mentre che l'abbraccio che io sto provando a fare, anche da un punto di vista metodologico, è l'utilizzo dell'immagine come un modo di stare nel mondo, come una forma di presenza. Per cui tra significato e presenza, tra semiologia e fenomenologia, c'è una sorta di frizione che però secondo me non va ridotta a dualismo, bensì l'immagine è anche narrativa, è anche significato, è anche testo, ma è anche qualcos'altro. Di nuovo l'immagine è affettività, è sensorialità. Io ho spinto questo discorso fino al punto di cominciare a pensare alle immagini, ovviamente qua il lavoro fatto sulla morte di mio padre, che era un lavoro più esistenziale, e il mio nuovo lavoro in India, che è proprio su preparazione alla morte come etnografia sensoriale, lo mettono sul foreground. Mi sono ispirato molto agli scritti di Kandinsky, quando Kandinsky continuava a riferirsi all'arte, dice l'arte non riflette, non è una visione del passato, è una profezia. L'arte è una sorta di faro che butta luce sul futuro, è qualcosa che ci guida, Allora, se cerchiamo di invertire questo, quando lavoriamo con presenza, la presenza non crea necessariamente un significato bloccato, ma è quello che Lucian Taylor parlava di un atto di costante truth making, noi continuiamo a costruire la verità mentre ci affrontiamo, mentre utilizziamo le immagini. questo lavoro, oggi voglio parlare poi alla fine solo un po' di dualismi, come preannunciavo, io l'ho fatto un po' a livello di teoria, seguendo una serie di domande, cercando di interrogarmi sulla novità o non novità della visualità digitale, il tipo di estetica, la politica che sottende questa estetica, ma anche di metodo, cioè come possiamo incorporare queste idee nel contesto dell'indagine etnografica, come possiamo affrontare le immagini quando le immagini ci chiedono di fare qualcosa di più che non narrare, ma vogliono agire, si pongono come attori, si pongono come strutture multimodali. Allora, un terreno per discutere entrambi queste cose è quello della realtà virtuale, o dell'immagine nel senso più ampio immersiva, o come ho chiamato, il mio primo scritto sulle immagini immersive l'ho chiamato immagini ingoianti, swallowing images, che è un po' la sensazione che abbiamo quando entriamo in uno spazio di realtà virtuale. Quello che vedete è uno screenshot di uno spazio nel quale sono stato invitato ad entrare la settimana scorsa, facendo una lezione in VR, su VR, che poi ovviamente non è funzionata, è tipico anche del contesto digitale, che poi più spesso che mai fallisce. L'idea era simpatica, però è curioso pensare che l'istituto per il quale Davo faceva questo intervento, come ambientazione per una lezione in realtà virtuale, ha riprodotto ciò che faremmo comunque, cioè uno spazio di un'aula universitaria, o più o meno. E io lì sono andato in rivolto, ho detto ma se io do un'aula su realtà virtuale voglio volare, voglio creare uno spazio differente, voglio cercare... Allora, come giochiamo questa tensione nel contesto della digitale visuale tra il vecchio e il nuovo? C'è un paradosso, perché adesso andando ad analizzare la realtà virtuale io voglio tracciare una continuità col passato, però nel contempo questa continuità la scopriamo solo se sappiamo abbandonare il nostro passato, tipo riprodurre nel contesto della realtà virtuale, un'idea di etnografia come facevamo nel passato. Michael Taussig continua a metterci l'allarme sulla necessità di evitare, di ridurre il non saputo al saputo. Allora, il mio gioco sulla realtà virtuale è stato questo, ed è stato un gioco alquanto induttivo, che ha a che fare con una serie di lavori che ho visto, uno dei quali, questa, riflessione teorica sullo spazio della realtà virtuale, introducendolo da questo clip. Questo è un lavoro di Jordan Tannehill, che non ho visto di persona, ma ho intervistato persone che l'hanno visto e ne ho visto la versione online. È praticamente una performance uno a uno. Lo spettatore entra in una stanza, gli viene dato un visore, gli viene chiesto di sedersi per terra all'inizio e quando la performance inizia dura 15 minuti, le immagini che avete visto sono quelle che vengono viste nel visore, per cui una sorta di graphic novel, un fumetto che racconta la storia delle memorie dell'autore. Qui il bello, già mi impappino, perché quando parliamo di immagini immersive di questo tipo abbiamo un regista, abbiamo curatori, abbiamo designer. Cos'è questo? Un film? Una performance? Questa è ovviamente più una performance che è un film. Però diciamo, entriamo in questo mondo, il regista racconta la storia dei suoi ricordi di sua mamma, che è morta quando lui aveva sei anni, e a un certo punto un'intervista che ho fatto con un mio amico è stata estremamente potente da questo punto di vista. Lui mi ha raccontato che ha avuto due corti circuiti, perché a un certo punto gli è stato chiesto, mentre era seduto per terra, di disegnare, dire, guarda, muoviti attorno, vedi delle penne. Girandosi la vista, in realtà augmentata, gli permette di vedere che sono delle penne. Comincia a scrivere su una struttura che era terra, e le immagini cominciano a apparire nel suo visore coi colori, per cui è la prima cosa colorata all'interno di un mondo in bianco e nero, per cui il suo presente diventa colorato. progredisce la performance, a un certo punto la mamma si avvicina e gli dice posso darti un abbraccio, e lui nella performance dice sì, perché è tutto interattivo ovviamente, ma al momento che lui dice sì viene abbracciato veramente da un corpo fisico esistente, per cui la struttura della performance è che c'è un algoritmo che media i movimenti di un'attrice cablata dentro al visore dello spettatore, e per cui rompe completamente la possibilità, e di qua che comincerò poi la mia riflessione sul dualismo, cioè per andare oltre a questo rapporto tra saputo e non saputo, dovevamo anche rompere i dualismi, lo spettatore si trova in una condizione che non è né presente né assente, perché la persona di fronte a lui è virtuale ma è anche al contempo attuale. Io ho attraversato una cosa molto simile in un'altra lavoro che faccio dentro una parte di me era fuori. Il mio primo pensiero è stato, chiaro, la mia mente dentro perché entra nello spazio narrativo e il mio corpo sta fuori, però stavo sudando, per cui il mio sudore faceva parte dello spazio interno e le mie mani erano nello spazio esterno. Spesso viene ridotta questa a una questione di dissociazione, concetto sul quale io ho un'opinione molto forte, perché presumo che tutti voi in questi venti minuti che ho parlato fino adesso, se provate a fare mente locale quante volte avete pensato a vostra zia, cosa dovete fare lunedì, cosa vi siete dimenticati, ieri siamo più dissociati che no, dissociamo costantemente il nostro modo di funzionare, la nostra mente funziona per dissociazione, per cui in realtà virtuale semplicemente utilizza questa cosa. Ma qui è stato per me percettivamente rotto il dualismo tra mente e corpo, in un breve istante, dove una parte del mio corpo suda, una parte del mio corpo sente che sono fuori. Allora, come possiamo entrare in questo contesto cercando di darne senso senza riprodurre questi classici dualismi? Noi abbiamo un sistema dualistico, io lavoro in India dove l'epistemologia popolare non è dualistica, filosofia hindu, filosofia buddista non sono dualistiche, noi abbiamo un sistema dualistico, separazione mente-corpo, abbiamo il vero, il finto, abbiamo il reale, il virtuale e via dicendo. Come possiamo oltrepassarlo? Lì il mio destino mi ha portato a incontrare il mondo delle icone bizantine e poi faccio un breve passaggio sulla filosofia buddista. L'icona bizantina ha paradossalmente un funzionamento molto simile al mondo in immagini immersive. Quando entriamo in un mondo immagini immersive siamo avvolti, siamo al centro di un movimento, ma gli oggetti vengono a noi frontalmente. Allora, il motivo per cui ho scoperto la questione dell'icone tra l'altro è che ho una zia suora pittrice, per cui ho imparato la pittura dell'icone che ha una ritualistica molto rigida, seguendo i suoi consigli. Allora, per riassumola molto brevemente, lo spazio dell'immagine, nel caso di una icona, è diviso in due livelli. Non so se avete fatto caso che ogni icona ha una testa in genere estremamente ampia. I capelli di Gesù sono sempre estremamente grandi in proporzione alla grandezza del suo viso. C'è sempre quasi questa deformazione delle figure centrali. Questo è nelle icone frontali. Il volto di Gesù è invece piatto. Il volto giunge piatto. Allora, la struttura del disegno di un'icona prevede che viene fatta, tratte le linee sul fondo del legno, poi viene coperto dallo strato di metallo, poi si dipinge lì sopra. E c'è una geometria molto precisa dove praticamente la parte che avvolge il retro dell'immagine ha il punto di fuga dietro allo spettatore. Come nel mondo virtuale, tu sei dentro all'immagine. Però l'immagine di Gesù t'arriva frontale. Ok? E più o meno sono anche molto difficili da riassumere. Ho trovato queste due visualizzazioni che sono in un manuale di pittura, un manuale che insegna a dipingere le icone. Questo modo di operare ha a che fare col fatto che l'icona si propone senza un punto di osservazione fisso ed è pensata come immagine fondamentalmente tattile. È un'immagine che deve portare allo stato di meditazione. Pavel Florensky, il teologo e storico dell'arte russo, scriveva che l'icona va interpretata come un portale per entrare nel mondo. Non è una rappresentazione del mondo, è un modo per entrare nel mondo. Questa qui è tra l'altro l'icona che ha dipinto mio zia, mia zia ecco qua davanti a me. Per cui è una questione di tattilità, è una questione di entrata in un mondo, è una questione di agency, è una questione di performatività. Ed è lì che il punto di contatto con le immagini digitali diventa alquanto ovvio. Ma soprattutto c'è una rottura che è interessante, questo dal punto di vista politico, che questo mondo di immagini rompono anche una serie di assumptions, come si dice? Assunzioni? No, assumptions, quello che diamo per scontato. Assunzioni, concetti, statuizioni potremmo dire, asserzioni. Ciò che diamo per scontato, cioè la traduzione dell'immagine fotografica in riproduzione naturalistica del modo di funzionare dell'occhio umano. Non ho il tempo per entrarci, però fondamentalmente l'immagine, a partire dalla prospettiva rinascimentale, l'immagine geometrica spinge lo spettatore fuori dalle immagini, come in questa visualità qua, dando una sensazione di controllo dello spazio. Nei teatri di Roi Soleil c'era un posto unico privilegiato da cui vedere il mondo. Questa è anche la rappresentazione, la traduzione in visualità di un mondo monoteistico, verticale, un mondo che crede nelle linee, che poi costruirà la proprietà privata sulla base delle linee, i confini fra gli stati in azione, eccetera, eccetera. La prospettiva rinascimentale che viene riprodotta poi dalla macchina fotografica, fondamentalmente costruisce su una politica di separazione e controllo. Politica di separazione e controllo che viene rappresentata anche dallo schermo. Lo schermo quadrato limita, separa, ma la telecamera, anche a differenza della telecamera a 360 gradi, quando filmiamo si propone sempre come una sorta di schermo protettivo tra me e le persone che filmo. Ovviamente possiamo applicare tecniche per cambiare questo, ma sul lato pratico voglio tornare dopo. Insomma, la grande sfida del mondo virtuale è semplicemente che ci porta all'interno di un mondo facendoci perdere la sensazione di poterlo controllare dall'esterno. Capiamo che siamo parte del mondo, come intuito da Merleau-Ponty, invece che esserne spettatori. Non siamo spettatori, siamo coattori nel mondo in cui viviamo, l'immagine è noi. Mi seguite qua, perché è una nozione che fondamentalmente decentra il nostro modo di operare con le immagini, ma soprattutto decentra anche il monocularismo di cui fa parte la macchina fotografica. La macchina fotografica che vediamo come strumento naturale, a cui abbiamo dato l'autorità di riprodurre il mondo là fuori, ci rende tutti ciclopi. Soggetti neurotipici hanno due occhi che lavorano l'uno contro l'altro, i nostri occhi rifocalizzano 60 volte per secondo ed è grazie a questo costante cambio di focalizzazione che noi abbiamo senso di profondità. Per cui il nostro senso di naturalità della macchina fotografica è uno dei miti che abbiamo costruito nella fede che abbiamo nella matematica. Lascio perdere il lato storico e politico di sta roba qua, ma la questione giunge abbastanza chiara. La realtà virtuale di per sé non è niente di nuovo. Di per sé è un modo nuovo di porci una cosa che è un anelito molto antico. Dalle chiese bizantine agli scambi di occhiate nei muri della Casa dei Misteri di Pompei, di Villa dei Misteri, alla fotografia stereoscopica. Al 3D gli esseri umani hanno sempre giocato con l'idea di un'immagine immersiva, però questa immagine immersiva, a questa immagine immersiva non è mai stata la dignità di immagine egemonica. L'immagine egemonica ha una struttura rettangolare che riproduce quella della prospettiva rinascimentale che celebra il trionfo della razionalità, della separazione fra mente e corpo, ci sbatte fuori dalle immagini e oggi siamo obbligati a entrarci. Attenzione, parlando così sembra che io sia un entusiasta della realtà virtuale, raramente trovo lavori che mi piacciono. Quelli che mi piacciono però sono lavori che non raccontano una storia ma che portano presenza. Allora, nel mio lavoro sulla realtà virtuale, quello che ho provato a fare o sulle immagini immersive nel senso più lato, ho provato a porle semplicemente su un continuum storico, applicando una basilare categoria gramsciana, egemonia e controegemonia. Immagini immersive sono sempre esistite e sono sempre state controegemoniche, fondamentalmente, tranne nel mondo dell'icona bizantina dove è la forma egemonica di immagine. Nel contesto della modernità, tutte queste immagini, la stereoscopia, è sempre stata messa d'accanto come un gioco, una cosa che non ha valore, l'utilizziamo con difficoltà anche nel contesto del documentario. Allora, io adesso ho bisogno di Felice per capire se posso avere ancora cinque minuti o se devo già... Direi di sì, siamo nei limiti, direi cinque minuti, direi puoi chiudere, poi abbiamo più o meno un'ora per poi proseguire, sviluppare poi il nostro... la nostra riflessione, il nostro dialogo. Benissimo, quindi direi che puoi andare. Ok, per cui praticamente questo gioco a cavallo dei tempi, sovrapposizione abbastanza curiosa e risultato di serendipità, di incontro con l'icona, mi ha offerto una sorta di possibilità di non riprodurre il saputo nel non saputo nella mia esperienza dell'immagine immersiva, seppur di collocarlo in una storia, per cui non è né nuova né vecchia. Cosa facciamo di queste categorie dove qualcosa non è nuovo né vecchio? Cosa ne faccio quando io sto dentro alla macchina dell'immagine immersiva e non sono né dentro né fuori? Lo riduco a mente e corpo, la classica lettura di empty machine, la macchina empatica dice questo fondamentalmente, riduce al dualismo, però come nel mio esempio del sudore della mano, io a volte non sono né dentro né fuori. Allora qui è un lavoro che ho iniziato e ho trovato anche un mio giovane collaboratore che si è innamorato dello stesso approccio e ci stiamo lavorando assieme. La filosofia buddista, io non sono buddista, tra l'altro, giusto perché quando uno nomina filosofia buddista c'è sempre una trappola che abbia a che fare con la fede. Ma la filosofia buddista come tale, la visione del mondo buddista e l'epistemologia, ontologia buddista entrambe, poggiano sulla possibilità del non dualismo, cioè di trascendere l'idea che tra, per esempio, io e non io vi sia una distinzione. Io posso, nel contesto buddista, essere sia io che non io contemporaneamente, il se e il non se. Possiamo essere contemporaneamente qua e non qua. Ogni categoria del pensiero buddista prevede la possibilità di una doppia negazione che trascende il dualismo. Per cui il bardo nel contesto buddista è uno stato intermedio tra la vita e la morte, ma non è il passaggio tra i due, è uno stato di esistenza. Per cui il buddismo, essendo un metodo percettivo fondamentalmente, che costruisce sul riconoscimento della trascendenza, dell'effemeralità dell'essere, classica meditazione buddista che funziona meravigliosamente in un corso di cultura visiva, prendete una foto di voi da bambini, osservatela, cercate di capire cosa è voi e cosa non è voi in quell'immagine. Ogni immagine trattiene qualcosa di noi, ma anche qualcosa che non è noi. Ma quel non noi non è altro, è sempre noi. Ed è estremamente geniale, è complicato entrare, ma il buddismo rompe proprio questi divari, rompe il divario mente-corpo. E allora abbiamo cominciato a lavorare inserendo proprio questo contesto di doppia negazione per cercare di sfuggire al dualismo. La realtà virtuale non la spieghiamo col dualismo, così come non spieghiamo le icone. Andiamo a spacchettare i principi della visualità, della costruzione di queste immagini e dobbiamo fare un ripensamento molto profondo su tutti i termini fondamentali su quali costruiamo la nostra analisi delle immagini. Frame, come si chiama? L'autogramma, la cornice. La cornice, no? L'inquadratura. Il punto di emanazione. Non abbiamo mai riflettuto su come i proiettori. Chi è della mia generazione si ricorda quando vedevamo le foto a casa o i filmini delle vacanze e se ti alzavi in piedi partivano le urla. Il proiettore è una macchina politica, così come la nostra immagine quadra, anche il proiettore organizza lo spazio, non solo all'interno dell'immagine, ma allo spazio della visione. Qui il proiettore sei tu, nello spazio virtuale sei tu che attivi l'immagine tramite il movimento, la psicologia ecologica di Gibson, eccetera. La fenomenologia del movimento, della kinestesi di Chris Tilley. L'immagine si... sappiamo che il mondo c'è, come nella nostra percezione del mondo. Il mondo c'è, è là fuori, ma non esiste finché non lo percepiamo. Per cui è nel nostro movimento nel mondo che il mondo si attiva e viene a noi. Per cui ci offre proprio la necessità di un ripensamento profondo. Io chiudo qua velocemente solo sulla questione di come puoi applicare e rigirare questo sulla pratica, perché questo è il lato teorico. Allora, io ho applicato l'utilizzo di tecnologie immersive. Immersive possono essere immersive nello spazio, 360 gradi, ma anche immersive nel tempo. Per esempio io sono un grande utilizzatore delle live vlogging cameras, che non credo si possa... queste piccole telecamerine che prendono una foto ogni 30-60 secondi. Ho anche costruito assieme con Ingegneri di Bilbao una app che crea queste sorte di visualizzazioni geolocalizzate del movimento. Queste telecamerine semplicemente le porti addosso tutta una giornata e creano un diario della tua giornata. Per un etnografo è fantastico, una sorta di... permette una sorta di capacità di memorizzare enorme. Ma portano anche alla luce dettagli, visto che non è una telecamera dove tempo e inquadratura è scelta da me, bensì dal mio corpo mentre mi muovo, ed è talmente piccola che me la dimentico addosso, porta anche quello che Benjamin chiamava l'optical unconscious, l'inconscio ottico a contatto con noi. Scopriamo cose nelle quali non avevamo fatto mente locale. col 360, sempre parte della mia etnografia sul distacco dovuto alla morte di mio padre, ho continuato a mettere questa telecamera in luoghi diversi mentre che smontavo la casa. Entrambi i clip sono legati a questo smontamento. E questo clip qua mi ha dato modo di fare una prima estremamente banale osservazione. Nel contesto del filmare in modalità di documentario o di etnografia visiva con telecamere a 360 gradi si rompe uno dei miti che abbiamo sempre avuto in mente, quelli di essere esterni alle immagini che filmavamo. Molto cinema etnografico ha questi clip che trovo molto spesso abbastanza buffi. Mi filmo nello specchio, l'ho fatto anch'io, per carità, per far vedere che sono conscio di essere lì. Qua non puoi far a meno di essere lì. Vedete che c'è un piccolo fantasmino che esce? Perché quello sono io che sono andato a fumare un sigaro sulla terrazza. La prima cosa, io utilizzo molto i 360 con i miei seminari di pratica del documentario, la prima cosa che ogni studente chiede è dove mi metto. Allora ci obbliga a posizionarci all'interno dell'immagine. Ci obbliga a riflettere pertanto di posizionalità, riflessività. Ci obbliga a ripensare l'idea del controllo sulla narrativa. Questo è il mio ultimo slide, è felice? Va benissimo. Sul controllo sulla narrativa. Non posso controllare, in uno spazio immersivo, se io voglio guidare il meaning making, la costruzione del significato a parte dello spettatore. Posso tentare di utilizzare stratagemmi, mettere molto buio davanti, molta luce dietro, o uno schiocco di suono. Tra l'altro Greca, io ho visto un lavoro sul coltivatore d'api una volta, fatto in Inghilterra, ed era tutto costruito sui suoni, no? Ti obblighi a girare perché hai queste api che ti vengono addosso. Però l'idea della narrativa, così come l'abbiamo intesa, la dobbiamo abbandonare e si libera lo spazio per un cinema etnografico molto più vicino al cinema di Bob Garner, un cinema esperienziale, un cinema che non ha come l'ambizione di collocare e tradurre un significato, bensì di permettere un'esperienza. Però un'esperienza che al contempo è antidualistica e qui ci riporta, ed è uno dei lavori che ho adorato quando ero studente, è il lavoro di Robert Merton su Insider and Outsider. Merton diceva quando facciamo ricerca, come sociologi nel caso suo, esattamente la stessa cosa si applica, Kiren Narayan ha scritto nel caso dell'antropologia, siamo sia Insider che Outsider. La nostra vita è sempre costruita, Goffman, i ruoli, è sempre costruita in uno gioco fra posizioni diverse, no? E Merton diceva che il nostro lavoro è quello di essere sempre sia Insider che Outsider, perché un ricercatore, un documentarista deve sapere entrare nel mondo degli altri, ma non per diventare altro, ma per poi riesportarlo. Allora questo gioco buddista del sé e non sé, del là ma non là, del qua ma non qua, ci porta anche a avere un'altra riflessione sul ruolo dell'insider and outsider che entra molto matericamente nel lavoro quando prendiamo queste telecamere in mano. E chiudo semplicemente col fatto che comunque immersione, presenza, interattività corporale sono anche i principi fondamentali dell'etnografia. Incominciamo a insegnare etnografia dicendo la differenza fra etnografia e altri metodi di ricerca sociale sono proprio questa capacità di immergersi corporalmente nello spazio. VR è un strumento per proxy che fa pensare a queste cose. Mi fermo. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie veramente a Paolo Favero per questo grosso sforzo sintetico ma anche analitico, anche qui il dualismo. Cerco di superarlo perché comunque il quadro che ci propone è il quadro appunto di un indirizzamento del discorso sul piano dell'immagine evidentemente su logiche e su prospettive che non sono prospettive diciamo così. Vorrei anche evitare la metafora di tipo scopico. C'è quindi materia per ripensare il nostro rapporto con l'immagine, per considerare la presenza, per riconsiderare appunto tutti i fenomeni attuali di produzione delle immagini all'interno dei network sociali, delle reti su questi piani e quello che mi pare fra le altre cose particolarmente significativo è proprio questo quadro che tende come dire a connettere esperienze storiche, esperienze presenti in noi in maniera latente o meno. quindi grazie complessivamente per la ricchezza di spunti e per anche la precisione appunto concettuale che è stata collocata nell'ambito di questa panoramica così ricca. Io non dico altro, io passo direttamente a come abbiamo convenuto prima la parola a Rossella Ragazzi perché sviluppi le sue riflessioni e le sue osservazioni su quanto abbiamo detto. Prego Rossella, grazie. Grazie Felice. Grazie Paolo, veramente bellissimo intervento che per digerirlo mi ci vorrà un po' di tempo perché è veramente pieno di spunti. Io ho cercato di riflettere a questo seminario attraverso la lettura del tuo libro The Present Image e non oso tradurre ancora il titolo perché ha una risonanza in inglese che rischia di perdersi in italiano. Come descrivi nel libro, questo libro non è tanto sulle immagini digitali in sé quanto sul loro habitat digitale. E poi più in là dici, le immagini presenti hanno la tendenza ad attaccarsi a quelle vissute in quel momento, guardano al presente come ad un punto di suture fra passato e futuro, permettendoci di afferrare quei modi sempre presenti con l'involgimento, con immagini che sono state messe ai margini da pratiche egemoniche. E poi ancora più in là, le immagini presenti sono con altre parole un terreno di controgemonia, ma present in present images intende parlare anche della presenza, all'obiettivo di sottolineare ontologicamente un certo senso di essere in reciprocità, relazionalità e tattilità. E stiamo dunque in un'area disciplinare che copre filosofia, visual e media study e chiaramente antropologia. E apprezzo molto quei saggi che iniziano con una revisione dei propri assunti pubblicati in precedenza, un po' come fece T. Mingle nel suo noto La percezione dell'ambiente uscito a cavallo del millennio, in cui riprese alcune delle proprie tesi e le criticò e le oltrepassò. E così tu fai, mi sembra, nel secondo capitolo di The Present Image, nel 2013 vedevi del potenziale dell'IDOC, l'Interactive Documentary, e non solo, visto che la definizione di IDOC ormai è ampia, è ubiqua, ma si può comunque ricondurre alla manipolazione di vari media digitali in contesti di percezione particolari. Come vedevi, dicevo, nell'espansione dell'IDOC una potenzialità liberatoria e sperimentale per le scienze umane e sociali, nelle società tecnologizzate e nell'uso da parte di singoli oppure di gruppi. Ora rivedi la tua posizione anche alla luce delle tesi di Negri, Hard e Virno e ci offri un'interessante critica dell'uso dell'immagine nell'universo tardo-capitalistico. Il terreno di questi prodotti è sperimentale e, come quasi in tutti i fenomeni della rete o digitali, sembra riduca la gerarchia fra amatori e professionisti dell'immagine, anche se forse questo aspetto è un po' illusorio, come cercherò di argomentare, e magari anche un po' smart-centrico. Non so come usare un nuovo troppo, ma insomma, come diciamo, etnocentrico, possiamo dire anche smart-centrico, nel senso che chi ha la tecnologia lo può praticare e chi non l'ha è al di fuori. E ho cercato innanzitutto di abbinare alcune delle questioni date e trattate, poeticamente, filosoficamente e criticamente, ai film che ho potuto vedere nel programma di Israel, perché pensavo appunto, siamo qui in questo seminario con molti dei partecipanti al festival, e come disclaimer aggiungo che non li ho potuti vedere tutti, naturalmente, per cui quelli a cui faccio riferimento non sono in nessun modo gli unici esempi o i film più importanti, sono semplicemente quelli funzionali alla mia analisi, tra quelli che ho potuto vedere fino ad ora. E non mi riferisco a questi esempi per dire che sono prodotti ai doc, cioè i tipi di lavoro trattati nel libro appena citato, ma mi riferisco a questi esempi perché hanno in nucia delle caratteristiche estetiche, materiali, percettive, che si sarebbero adattate magari all'Aidoc, credo. Ma il loro essere film, e guarda caso film che hanno una cifra classica da 16 mm o da 35 mm, costruiti in modi lineari, narrativi e di autore, li pone come esempi interessanti per una possibile evocazione dell'Aidoc. E prendo un caso di Progresso Renaissance, che risuscita e utilizza in modo mimetico il 16 mm classico dei primi anni 70. C'è una costruzione fenomenologica molto sofisticata e interessante per l'antropologia visuale aurale, visto che utilizza materiali di repertorio, immagini contemporanee e un certo sguardo sociologico sui corpi che attraversano e abitano il territorio intorno a Porto Scuso. Cito solo alcuni dei piani per necessità di brevità, chiaramente. È un lavoro dove l'aspetto puramente cinematico è rafforzato, nella sua primaria qualità di immagine e movimento, da una consapevolezza degli autori, di come si costruisce via via in artifici distinti. Suono di ambiente, musica, dialoghi, velocità di scatto, colorazione, sincronizzazione, sono qui fusi organicamente. Da un archivio storico degli anni 1969, siamo in un documento celebrativo dell'Istituto Luce che offre immagini esaltanti del progresso nel Sulcis e Iglesiente, sul territorio che si innessano poi immagini filmate recentemente ma in stile d'epoca, in una sorta di suture dove i due piani storici sono quasi indistinguibili, anni 65 e 70 e oggi. E poi in oscillazione diventano molto apparenti, soprattutto per spettatori nativi, nativi chiaramente fra virgoli. Le immagini in movimento sembrano essere l'epidermide, ma c'è un lavoro sulla sonorizzazione che è soggiacente e vascolare. Il suono è isolato e potenziato da una musica acustica ed elettronica che rafforza alcuni fonemi isolati. Un esempio è il suono di batteria sulla pallina del calcetto, con rimbombi in procinto del golf, e che a volte poi prende il sopravvento come musica elettronica di atmosfera, interrotta da silenzi molto espressivi. Oppure in commenti acustici ed elettronici evocativi, tipo film di fantascienza degli anni 60-70, che sono anche commenti sonori tipici dei cinegiornali. In un certo senso questo, preso come film antropologico, è una sorta di modello per un modo di guardare al cinema come cinema puro, ma anche come quel tipo di costruzione che alcuni antropologi invocavano per i loro testi, almeno coloro che hanno contribuito al cosiddetto narrative turn e a modalità di assemblage. A questo si unisce la fenomenologia dei corpi immersi nell'ambiente, come vediamo in altri film di questo festival, come ad esempio No Kings, Solo, Space Dogs. Quest'ultimo, girato a Mosca, per me sommo esempio forse non tanto solo di cinema antropologico, ma di una forma di antropologia visuale in modo simile al Sensory Laboratory di Harvard, ad esempio, dove abbiamo visto film di Snadesky, di Paravelle, di Tyler e alcuni di MacDougal come Schoolscapes, ma diversamente da quelli c'è un lavoro su immagine, anche di repertorio. Gli archivi hanno un ruolo importante e di rottura, di sguardo critico, come ad esempio la vivisezione sui cani. Gli esseri umani in questo film sono periferici, quanto gli animali sono in genere periferici o solo funzionali nella maggior parte dei documentari etnografici, tranne quelli pastorali. C'è un ribaltamento in questo film Moscovita in cui si è in un universo cinocentrico, se così posso chiamarlo, ma comunque filmato da bravissimi cineasti umani e non da telecamere chip inserite nel corpo dei cani protagonisti. Da un dichiarato stile di osservazione senza interventi, anche in situazioni drammatiche, si scivola in una narrativa che inevitabilmente emerge dalla durata dei piani lunghi, necessariamente segmentata in sequenze. Anche perché i cani randaggi, guarda caso, sono perfetti per essere eseguiti e documentati in sequenze altamente fotogeniche. Fino a catapultarci in un avvenimento che è intollerabile per chi ama i gatti quanto gli umani, e ce ne sono tanti, c'è la predazione e uccisione lenta di un gatto da parte del nostro protagonista, fino a quel punto il nostro beniamino caninino, un upper dog di un altro under dog con cui razzola per mosca. E la morte lenta del gatto ad opera del cane, protagonista del film, è girata nella sua interezza, agonia di gatto inerme, senza intervenire, e se no che osservazione etnografica è, si direbbe. Essa può suscitare dolore, forse senso di impotenza, ed è un momento che cambia il film da quel punto in poi, ci chiama in causa. Questo è un tratto comune, mi sembra, con la realtà aumentata dell'iDoc. Ci chiama in causa perché i cineasti non distolgono lo sguardo, ma non è voyerismo cosciente, almeno mi sembra, non è la dark room di internet, non è pura spettacolarizzazione nemmeno, mi sembra. Ha piuttosto quasi empatia per la condizione di ogni essere in quell'evento, incluso l'operatore e il fonico che devono testimoniare di una relazione fra cane randaggio e gatto randaggio. Per noi spettatori è però molto traumatizzante. A uscire è il migliore amico dell'uomo, il cane, e il suo oggetto è un gatto, animale amatissimo e intimo in molte culture. E lo vediamo esemplificato nel film Res Creata, ad esempio, che tipo di rapporto si ha con gli animali che scegliamo. Eppure quanti documentari abbiamo visto nel mondo occidentale in cui leoni e leopardi predano e uccidono le gazzelle? In Space Dogs scatta un altro meccanismo in noi, sono i nostri animali domestici, mannati randaggi in contesti prettamente urbani e dunque parte dell'ambiente umano per eccellenza, che ritrovano la loro natura predatoria, quella stessa natura che gli esseri umani hanno impiegato millenni a contenere e a domesticare. Ecco un paradosso. Questa scena lunga del gatto fa da prologo a ciò che seguirà, in cui saremo confrontati alla storia di persecuzione dei gatti randaggi moscoviti, scusami, dei cani randaggi moscoviti. Attraverso archivi russi filmati nei laboratori di vivisezione e nelle sequenze odierne di canili concentrazionari, decine di cani abbaiano affamati e disperati nelle loro piccole celle allineate. Vengono filmati frontalmente, con una lunga carrellata parallela alle gabbie. Nessuna gabbia si apre, nessun cane scappa. Li lasciamo là da abbaiare per sempre. La vita da cani randaggi moscoviti poteva essere raccontata in altro modo, dall'Idoq. Cosa può portare un altro tipo di tecnica, tecnologia e fruizione a questo tipo di cinema così consapevole della propria tradizione estetica e potenzialità espressiva? Idealmente questo è un film da grande schermo, da vedere in sala, ha una fotografia, un suono eccelsi e si auspica a una proiezione in collettività. Tanto è forte l'esperienza, è necessario sentire il respiro di altri spettatori accanto a sé. Facendo questi esempi intendo riportare la discussione sulla fruizione. Da una parte la spettacolizzazione delle tecnologie iDoc allettano un fruitore comunque privilegiato per via di un accesso a tecnologie complicate e necessitanti performance informatica, alta velocità internet e programmi costosi installati su computer con processor recenti. A questo fruitore privilegiato viene proposto molto, dall'offerta a leggere la mente di comuni viaggiatori sullo stesso vagone della metro, o passare qualche ora di malessere nella cella di un condannato ad eterno isolamento per essersi ribellato al razzismo, fino a rituali mai sentiti prima in zone di foresta pluviale dove il rito può essere vissuto in 360 gradi, riorganizzando lo spazio collettivo attraverso la propria mobilità percettiva randomatizzata. Non c'è fine per tale offerte e questi media resteranno sul mercato ancora per un po', tranne che la velocità di trasformazione delle tecnologie basate sul mercato individualizzato potrebbe collassare se l'economia globale subirà una decrescita come è auspicabile se vogliamo salvare il pianeta. Ma mi interessa vedere questo panorama in modo sistemico. All'oggi tutte le tecnologie a cui ho appena accennato convivono. C'è stata una somma, non solo una metamorfosi. Questo surplus mi potrebbe preoccupare ancora di più per le nostre ecologie, da quelle dell'ambiente a quelle della psiche. Quanto possiamo consumare ed essere consumati ancora? Lavoriamo come schiavi per comprarci un ennesimo strumento tecnologico e non sappiamo dove buttare i vecchi, tanto per dirla in modo triviale. I film bidimensionali o classici, al tempo della loro invenzione, crearono un ben più basso sconvolgimento tecnologico per la bassa e media borghesia a cui si offrivano come spettacolo della realtà aumentata dall'inizio del secolo ventesimo. Essi si fecero paladini di un desiderio di universalismo dello spettacolo cinematico, tanto da diventare dopo pochi decenni Star System e Pepli. Tanto per citare un classico, l'arrivo del treno alla stazione della Siotata dei fratelli Lumière ebbe un impatto sulla psicologia collettiva ben più sconvolgente, credo che le tecnologie ad hoc odierne. Allora la mia interrogazione si pone a livello dell'ecologia e della visione e della fruizione collettiva in cui tutto è accettabile e interessante e non ho priori sulla ricerca creativa che tali esperienze e ricerche sensoriali percettive possano avere per l'antropologia, lo voglio sottolineare. È il contrario direi, l'antropologia per definizione è aperta a qualsiasi esplorazione di tali esperienze e fautrici a sua volta di esperimenti in questo campo. Ma l'antropologia è una delle discipline più povere dell'accademia e non vedo come possiamo arrivare alla stazione della Siotata senza delle tecnologie ad hoc, ma è interessante Paolo averti seguito in questa evoluzione della tua ricerca su questi formati, anche perché tu sembri esserti reso conto che a livello della fruizione di questa tecnologia il controllo neoliberalista è ancora troppo potente. Si può invece pensare per noi antropologi a questo tipo di ricerca su alcuni dei suoi aspetti, per la sistematizzazione, l'esplorazione e la riproduzione archiviale dei nostri materiali, ad esperimenti digitali condivisi e collaborativi con gli attori sociali e nelle nostre future autoetnografie. Ecco, queste erano delle considerazioni che ho portato qui in Assemblea Digitale e passo la parola al cerchio. Molte grazie Rossell, soprattutto per la conseguenzialità e l'originalità di questo contributo che in qualche misura proprio si collega e problematizza direi in maniera acuta il tema appunto di ciò che viene implicato da questa apertura, come dire, di visione e di considerazione che ci aveva appunto proposto Paolo, nel senso che il quadro delle fruizioni, il quadro dell'accesso alle tecnologie, il quadro, come dire, del controllo degli universi visivi in cui puoi agire anche dal punto di vista appunto delle nostre etnografie, poi non si definisce facilmente, deve essere oggetto, come dire, di un'ulteriore riflessione, di un'ulteriore probabilmente sperimentazione a vari livelli. Noto soltanto brevissimamente che in buona parte del cinema etnografico, questa divericazione fra prospettive inclusive e prospettive invece strettamente contemplative, l'abbiamo chiamato con Francesco Bacchis e con Greca, l'abbiamo chiamato questi nuovi habitus, questi habitus chiamiamoli neoclassici, nel campo del confezionamento di film etnografici, persiste, sembra quasi proprio contrapporsi, presentarsi a volte in maniera egemonica in molti festival, in molti contesti appunto di produzione, di fruizione, di immagini etnografiche. Io rimango sempre un po' perplesso quando vedo film etnografici in cui esiste un direttore della fotografia, ad esempio, cose del genere. Ma questo è una derivazione, diciamo così, del discorso che magari lascio dopo. Do la parola a Greca, Greca Meloni, per sollecitarla appunto alle sue considerazioni su quanto stiamo dicendo. Grazie. Grazie Felice. Grazie anche Paolo per questa presentazione interessantissima, estremamente stimolante, devo dire, e anche per le ultime riflessioni di Rossella che hanno colto un punto che secondo me è un tasto decisamente dolente, ma vorrei partire più che altro da una cosa che hai detto tu mentre parlavi nella tua presentazione, cioè che invece di focalizzarti sugli strumenti visivi come una forma di rappresentazione, stai cercando di approfondire un po' come queste immagini, la produzione di queste immagini, rappresenta anche una sorta di stare nel mondo. Si è parlato tanto di posizionamento nel tuo intervento e hai legato questo posizionamento alla tecnologia facendo notare anche come il posizionamento nel sistema diciamo flat della produzione delle immagini sia molto diverso da quello che viene sollecitato con le immagini 360, con la realtà aumentata, in cui c'è anche una sollecitazione, diciamo l'egemonia dell'aspetto visivo viene ricollocata e riassorbita rispetto anche ad altri a una performance in cui altri sensi sono sollecitati, come dicevi tu nell'esempio che hai fatto che ad un certo punto hai avuto una sensazione di stare lì e non stare lì, quindi c'è anche questa dimensione spazio-tempo ma in cui vengono coinvolti una dimensione sonora, la dimensione visiva ma anche la dimensione percettiva, quindi sono diversi aspetti che questa immagine, è difficile anche chiamarla immagine tra l'altro, sollecita e sei riuscito a legare, questa è una cosa che ho trovato estremamente interessante con l'antichità, col passato, quindi con la produzione di immagini nel periodo bizantino è la prospettiva lineare che come sappiamo ha influenzato e tuttora influenza gran parte del nostro rapporto con le immagini, con la produzione di immagini ma che nasce proprio in come una sorta di rottura con quello che veniva prima, cioè la produzione delle immagini e delle icone in epoca bizantina e c'è una cosa molto interessante che fa notare Adorno su questo passaggio che è sempre stato interpretato il rinascimento, quindi la creazione della prospettiva lineare come una sorta di momento in cui l'arte diventa imitatrice della natura, quindi le immagini imitano la natura e lui sottolinea che in realtà non si tratta di imitare la natura ma di capirla e di dominarla che è una cosa ben diversa attraverso la razionalità e quindi quello che viene rappresentato non è la realtà ma quello che viene capito di quella realtà come io la domino da questo punto di vista che è un po' quello che vediamo oggi sul cinema, anche cinema del reale, non è mai una realtà come possiamo dire neutra che ci viene presentata così e questo è legato anche al sistema che la produce quella realtà come faceva notare Felice, c'è un direttore dell'immagine, della fotografia, un direttore del suono c'è tutto un sistema che produce quella immagine che ovviamente non è solo un'immagine e che è un'immagine già come dire digerita, maturata, interpretata, capita, che ti viene presentata e tu la guardi da un punto di vista che ti colloca già in un punto preciso di dominio in qualche modo rispetto a quello che stai guardando e questo è un po' il nostro modo di stare nel mondo, ragionandoci un po', cercando di fare un salto di qualità rispetto a quella che è esclusivamente la produzione delle immagini, un modo di stare nel mondo noi così come diciamo la rivoluzione del rinascimento è legata anche a una nuova interpretazione del rapporto anche nella religione, di quella che è l'umanità, la centralità dell'essere umano rispetto a tutte le altre forme degli esseri viventi, rispetto al paesaggio, rispetto a... che poi ha prodotto tante cose ovviamente oggi non ci poniamo in quella stessa linea, però è vero anche che queste forme di egemonia queste forme di dominio rispetto all'altro, spesso le troviamo anche nella produzione filmica in cui il regista etnografo arriva in un posto e in qualche modo la telecamera non sempre diventa uno strumento di conoscenza, ma può essere anche uno strumento quasi di dominio perché c'è comunque uno spazio tra te che sei lì, che riprendi l'immagine che viene prodotta e i soggetti di questa immagine. Ecco, quello che trovo estremamente interessante è che tu secondo me hai fatto notare, è proprio il fatto che con questa realtà virtuale, questo 360 sistema è come se si rompesse, a un certo punto tu non sei più in quella posizione tu non hai una posizione di un punto di vista in cui tu domini quella realtà che vorresti rappresentare ma tu sei parte di quella realtà, quindi vieni ricollocato e questa ricollocazione si pone anche con tutto quello che ti sta intorno, non solo esseri umani, come sai sono molto legata a questo discorso ma anche esseri non umani, per cui vieni proprio spostato, la tua centralità, la tua posizione di dominio cambia completamente, ha solo un nuovo significato e cambia anche il dominio del visivo non sono più gli occhi a dominare tutto quanto, quindi a capire attraverso gli occhi ma tu leggi anche la realtà attraverso tutta una serie di cose. Hai detto prima, facendo riferimento a un lavoro che hai visto in Inghilterra, poi mi dirai perché sono curiosa, in cui però la prima cosa che hai detto ti dovevi spostare perché sentivi le api da tutte le parti e quindi mi hai detto ho visto questa cosa, mi hai detto mi dovevo spostare perché mi sentivo dentro e le api giravano per cui tu entri in questo spazio e credo che sia uno degli aspetti più interessanti quindi tornando anche un po' a quello che dicevi alla fine sull'etnografia e quello che ha fatto notare anche Rossella, ci sono degli elementi che emergono come la rottura della narrazione. Uno degli elementi che mi sono posta io stessa è cosa ci faccio con le immagini 360? Cioè se decido di impostare un lavoro di campo con l'immagine flat e poi prendo l'immagine 360 come è capitato in un lavoro con un collega che ci faccio con quelle immagini? Le rendo flat? Utilizzo un sistema per renderle, per combinarle con l'altra immagine? Oppure faccio una cosa completamente diversa che non è un film che non è una narrazione lineare ma che deve essere necessariamente qualcosa altro e questo mi porta appunto a riconfigurare la centralità dell'immagine rispetto agli altri sensi come ho detto. Il posizionamento, ma a monte di tutto questo poi mi chiedo perché sì, non ho più una posizione di dominio quindi magari riesco a utilizzare questo sistema anche per, come dire, cambiare questa posizione rispetto agli esseri che vorrei dominare ma tutta questa produzione poi alla fine viene stoccata, ha bisogno di essere stoccata e i costi di questo stoccaggio sono enormi effettivamente e tutta questa produzione in 360 è comunque, come hai fatto vedere tu nella mappa con il wifi, in qualche modo utilizzata prevalentemente da una certa categoria di persone una certa parte del mondo che per stoccare anche tutta questa roba, tutta questa produzione massiva sfrutta tantissimo dal punto di vista ecologico quindi diventa poi secondo me anche problematico questo aspetto quindi ho cercato un po' di unire questi due temi. Grazie. Benissimo, grazie, grazie molto Greca per queste sollecitazioni che mi sembra si colleghino in maniera ideale a quello che stava appunto dicendo prima anche a Rossell nella direzione proprio come dire di un riferimento per una pratica dell'etnografia che sia consapevole appunto di tutti questi mutamenti e di questi quadri compresi appunto aspetti di questo tipo qui. Felice, posso aggiungere una cosa solo che lega le due? Sì, guarda io preferirei che sia meglio completare il quadro se ti è possibile. Perché c'è un gancio tra voi due che è molto interessante, su quale vorrei tornare. Va bene, ti chiederei gentilmente di ritornare dopo in una fase diciamo così reepilogativa perché abbiamo necessità di sfruttare in maniera compatta il tempo che abbiamo e quindi mi fa molto piacere vedere che ci sono, emergono già comunque collegamenti e spunti incrociati molto interessanti e su questo appunto do volentieri con piacere la parola a Vincenzo esposito perché appunto anche lui entra nel quadro di questo, come dire, di questo intreccio di idee, di punti di vista e di riflessioni. Grazie, prego, a te la parola Vincenzo, grazie. Allora tocca veramente a me. Sì. Grazie, grazie mille, grazie per avermi invitato, per avermi organizzato insieme agli amici di Sedea e va bene, quindi l'Istituto Superiore Regionale Ettenografico di Roma, eccetera, eccetera, che sono sempre nel mio cuore, tu come insomma un po' tutta la Sardegna, insomma, ma soprattutto perché stiamo ragionando intorno ad una serie di questioni, non so se si sente bene. Puoi alzare un po' il volume dell'audio? Non posso alzare il volume dell'audio, posso parlare più forte perché forse è l'unica cosa che posso... Vediamo un po' se posso farlo io, chiedo aiuto a Giada, eh? Giada può alzare il mio volume. Allora a tutti, no, penso che debba semplicemente parlare un po' più forte. Sì, sono io che devo parlare un po' più forte e che purtroppo non ho più tanta voce dopo queste cose, come dire, che sono successe a tutte noi e che ci costringono a parlare sempre, anche mai più forte, davanti ad uno schermo di quanto facessimo una volta, tanti tanti anni fa, in realtà da qualche mese, nelle aule. Però, insomma, è importante quello che ci siamo detti e quello che viene fuori dalla riflessione successiva all'esposizione di Paolo Favero. Io ho avuto la possibilità di leggere un po' di sue cose, perché nelle settimane e nei mesi precedenti ci siamo un po' scambiati del materiale, però non vorrei limitarmi soltanto alla lettura, diciamo, di quello che lui ha scritto, perché non ce ne sarebbe neanche il tempo, ma prenderei immediatamente spunto da tutta una serie di questioni che sono emerse, diciamo, proprio dalla sua esposizione di questa mattina, a partire dalla questione del GPS, perché, insomma, non so se si può dire mal comune, mezzo gaudio, ma, insomma, una volta mi voleva far fare inversione a U sull'autostrada che va da Firenze a Genova, per intenderci. Faccio inversione U al prossimo. Non l'abbiamo fatta, quindi va bene così. Sì, però questa questione del Wi-Fi è la questione, insomma, la questione di classe, è la questione politica. Tutti i giorni noi ci imbattiamo in questa strana temperia culturale che si è venuta, strana, strana, tra virgolette, temperia che, insomma, ci costringe a fare gli insegnanti, i docenti universitari, mia moglie insegna nelle scuole superiori, con il padrone del vapore, chi e chi ce l'ha, chi ha gli strumenti, chi detiene i mezzi di produzione, chi ha le idee, e come facciamo a parlare quando la rete è sempre quella che è, quando, insomma, non tutti i ragazzi, ci sono dei problemi enormi, che naturalmente oggi sono problemi che si concretizzano attraverso questo mondo così complesso e sfaccettato e multidimensionale, direi con un N che tende all'infinito, perché questa, no, mi sembra il succo della faccenda. Noi ci troviamo di fronte ad una nuova maniera, nuova, vecchia, vedremo adesso, di relazionarci, di tessere relazioni con gli altri che diventa sempre più legata alla rappresentazione per immagini, ma più, ed è questo, mi correggerà se sbaglio, Paolo, e questo è il succo delle sue riflessioni, almeno fino a questo momento, o almeno come sembra a me, che più ci rivolgiamo al mondo delle immagini, più scopriamo che questo mondo delle immagini è fortemente correlato e intrecciato con tutte le altre modalità della costruzione, della narrazione, cosa che naturalmente è avvenuta da sempre. Io prima, mentre lui parlava, mostravo questo volume che è quello di Pavel Florensky sulle icone, è un autore che lui cita, e che è stata una delle mie prime letture sulla riflessione, insomma, che mi ha portato alla riflessione sulle immagini. Pensavo alla questione degli algoritmi, per esempio, c'è un fisico ungherese, naturalizzato americano, che è statunitense, che insegna il MIT di Boston, se ricordo bene, che si chiama Laszlo Barabasi, che ha scritto un libro che si chiama Link, e un altro, più recente, che si chiama Lampi, e in quest'ultimo, per esempio, lui narra al lettore di un programma, di un sito, di una qualche diavoleria, chiamiamola così. Vi consentirete di essere molto sfumato e molto anche ironico sui termini. Sono nato come produttore di immagini con una Zeiss Icon 35 mm, una contina con ottica intercambiabile della mia epoca di fotografo di scena, e ho terminato con una Nikon F3, che è stata il mio massimo, come dire, la mia massima concessione alla tecnologia. Poi dopo sono venute le telecamere, naturalmente, e abbiamo utilizzato le telecamerine, i cellulari e così via. Ma voglio dire, Barabasi parla di un sito che si chiama Real Life, che poi alla fine si scopre che non esiste ed è una maniera, perché è un artificio retorico di Barabasi, per mostrare proprio questo senso di continuo intrecciarsi delle immagini con qualsiasi altro aspetto della nostra vita che non può esistere se non attraverso delle forme narrative, delle forme narrative multidimensionali che continuano all'infinito a intrecciare piani della comunicazione con delle continue rimediazioni, ma per utilizzare i termini di Bolter e Grusin e così via. Però, insomma, voglio dire, su queste immagini direi che addirittura, insomma, nel mio laboratorio c'è un collega che ci lavora, uno psicologo, che si chiama Gabriele Pulli, che ha lavorato molto sull'allievo, diciamo, un po' filosofo di Severino, ma che è un profondo conoscitore, per esempio, di Sigmund Freud, tantanto per dire la sua estrazione, e che lavora nel mio laboratorio, il laboratorio di antropologia, inteso in senso mortolato, ovviamente, a Bellarussia, a cui faceva riferimento l'amico Felice. Gabriele ha lavorato in questo testo, che è un testo che si intitola L'inconscio e il tempo, la faccio vedere giusto per la cronaca, pubblicato da Ligoni, sull'idea di immagine in Freud. Le immagini nella teoria freudiana, tanto in quella topica che in quella strutturale, sono delle cose molto importanti per la costruzione della nostra identità. Però le immagini non hanno possibilità di diventare narrazione della nostra identità, sto cercando di riassumere, ovviamente, nel brevissimo tempo che abbiamo a disposizione, perché veramente è stato molto, molto forte l'impatto, anche emotivamente, con la relazione, con il PowerPoint, insomma, con queste suggestioni, esatto, queste suggestioni che ci venivano da Paolo Fabero. Insomma, queste immagini hanno un forte impatto, anche, come dire, psicologico, sulla costruzione della nostra identità, ma mai da sole. Ecco, questo è il senso del lavoro dello psicologo non clinico, diciamo, ma ma teodico, un po' filosofo, che lavora nel mio laboratorio. Immagini che hanno bisogno di essere necessariamente associate alla parola, ovviamente, in primis, ma naturalmente oggi sappiamo, non più solo alla parola, probabilmente non era già così anche per Segund Freud, ma per noi oggi è chiaro che non esiste un'immagine che non sia associata alla parola e ad altre, altre, n, infinite modalità della rappresentazione. È un po' quello che ci avete mostrato, quello che ci state dicendo, insomma, e così via. Allora, a me vengono in mente due cose, giusto per arrivare alla conclusione, perché credo che siano già passati più di cinque minuti nella mia esposizione, e credo di averne altri cinque, sei a disposizione, e così via. Poi c'è uno che divaga, e quindi perde tempo, ma ognuno è causa del suo male, e pianga se stesso, ma insomma è anche la mia formazione da antropologo che mi porta, no? A scantonare, a trovare dei rivoli infiniti intorno alle cose che si dicono, cosa che fa Paolo, le sue riflessioni, che facciamo tutti quanti con il nostro produrre, interpretazione o proposte antropologiche. Insomma, è proprio su questo, per esempio, ricordo una conversazione di Levi Strauss con Lucetta Scaraffia, è un altro intervistatore di cui in questo momento mi sfugge il nome, a proposito, che è stata una trasmissione probabilmente di Dai Storia, o di Dai Education, o cose di questo genere. Lo ricordo. Nella quale c'è, insomma, che poi è stata ripresa anche in una pubblicazioncina piccola piccola piccola, un estratto, diciamo, di questa intervista, in un librino che si chiama Cristi di oscure presenze. Un'intervista sul perché Levi Strauss si è dato all'antropologia. E tra le altre cose si parla, e chiedono i due intervistatori a Levi Strauss che cosa fa di un oggetto, un oggetto bello, per esempio. Noi potremmo chiederci ma cosa fa di un'immagine un'immagine bella? Dove bella ovviamente non significa, o forse significa, oltre a significare bella in senso estetico, è ovvio che se faccio un prodotto delle immagini che sono anche belle, poi ci discuteremo come fa Levi Strauss, e insomma, forse è meglio piuttosto che immagini brutte, non lo so, ma un'immagine è interessante, che cosa fa un oggetto interessante? Bello come sinonimo di interessante, forse. La quantità di relazioni, risponde Levi Strauss, la quantità di relazioni che quell'oggetto riesce a catalizzare. Più diventa un catalizzatore di relazioni, più quell'oggetto è un oggetto interessante. Allora, io ho trovato, caro Paolo, veramente molto interessante il suo capitolo del libro di cui stiamo parlando, è quello sulle immagini immersive, come le chiami tu, perché, insomma, io sono un frequentatore della Biennale di Venezia, e ho visto che anche tu hai portato un esempio, no, per me e per mia moglie partecipare all'Abbiannale della Biennale di Venezia, mia moglie fa l'antropologa, ma non, diciamo, nelle università né altro, ha una formazione antropologica molto forte anche lei, ma lavora a scuola, insegna una scuola superiore. Per me andare all'Abbiannale è fondamentale, tutte le volte che c'è la possibilità di andarci, perché noi viviamo proprio in questo mondo dell'arte, tra virgolette, perché non saprei più neanche come definito, forse Francesco Marano ci potrebbe dire qualcosa di più dopo, ho visto che si occupa di antropologia e arte da tempo, e anche con me, diciamo, interessi personali, spazia dalla riflessione della ricerca etnografica alla produzione artistica in senso più stretto da un po' di tempo anche musicale, ma anch'io, a mio modo, sono un pessimo pianista di Jacks, per la verità. Ma questa immersione in questi mondi, dove tutto quello, questi mondi artistici, farei un esempio per tutti, perché fu una di quelle cose che mi colpì più quando, insomma, negli ultimi anni, ma non la sola, ma quella più immediatamente, come dire, forse pure reperibile su online, eccetera, sui siti del padiglione della Confederazione Elvetica della Svizzera alla BNR, un lavoro audiovisivo, chiamiamolo così, che si intitola Flora ed è opera di due artisti appunto svizzeri del 2017, i due artisti sono Teresa Hubbard e Alexander Birkler, ed è una sorta di proiezione simultanea della narrazione degli stessi avvenimenti della loro vita su uno schermo bidimensionale che però funziona da tutte e due le parti. contemporaneamente c'è lei e un lui che parlano, una moglie e un marito, chiamiamoli così, che raccontano gli stessi avvenimenti, ognuno da un lato di questo schermo, mentre tutti noi possiamo ruotare intorno a questo schermo e tutti quando noi percepiamo con vari gradienti di differenziazione, a volte più la moglie, a volte più il marito, a volte una confusione totale, a volte nulla, perché per tutti i motivi che dicevano lo stesso fa vero, ci distanziamo completamente da quello che sta succedendo, perché probabilmente non abbiamo più voglia di sopportare questo bombardamento. Allora, immaginiamo tutto questo moltiplicato all'ennesima potenza e questa è l'etnografia della vita, così come si svolgerebbe se non avessimo proprio queste possibilità. Io apprezzo molto la lunga, forte e corposa riflessione teorica che Favero ha fatto nel corso delle sue esperienze e chiuderei ricordando, per onorare anche quello che diceva De Martino, io sono, scusi, quello che diceva Felice Tittagallo su De Martino, e beh, io sento molto forte il peso di questa eredità a De Martiniano, che credo molto, ma veramente molto attuale, e c'è un aspetto del pensiero De Martiniano, poco o nulla studiato dagli eseggeti di Ernesto De Martino, è stato studiato in minima parte soltanto da Maria Signorelli, da Pier Giorgio Solinas, è un po' da me che ho scritto recentemente a proposito di un convegno De Martiniano che si è tenuto a Matera e a Galatina. C'è un'idea di Ernesto De Martino poco conosciuto, poco studiato, che è quella della ricreazione nella mente delle pretese culturali che stabiliscono come e perché all'interno di un contesto determinato si è arrivato a quegli strumenti per definire la realtà piuttosto che ad altri e questa continua rigenerazione di queste pretese per, come dire, al fine di interpretarle meglio, al fine di comprendere che è un po' il lavoro dell'etnografo e poi della riflessione dell'antropologo, secondo me è quella che è avvenuta fin dall'epoca De Martiniana con gli scarsi mezzi tecnologici che c'erano negli anni 50 ma utilizzati al pieno delle loro possibilità proprio nella continua riproposizione di queste riflessioni di questi atteggiamenti di questi documenti sonori di queste trascrizioni scritte di questi filmati di queste trasmissioni radiofoniche c'è una continua riproposizione ricreazione rigenerazione sempre uguale sempre diversa se prendiamo alcune pagine di Sud e Maggio per dire ritroviamo le stesse cose che ci sono nei filmati di Gianni nelle trasmissioni radiofoniche sui canali radiofonici all'epoca della RAI la stessa cosa avverrebbe per il tarantismo pugliese con Mingozzi con gli altri ancora è possibile c'è questa continua rigenerazione di queste premesse culturali cioè di quegli strumenti che vanno nella direzione della comprensione a 360 gradi per cui chiuderei con una domanda ma allora noi cosa ci facciamo con le immagini in quanto tali ci servono veramente grazie 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 Vincenzo per quest'ulteriore anello che va nella direzione appunto veramente di una secondo me di una riflessione molto fattiva molto costruttiva su sulle sollecitazioni che ci sono venute grazie anche per quest'ultima sollecitazione della sulle immagini cosiddette martiniane insomma che in effetti ci interrogano e potenzialmente ci aprono come dire a una come dire a un'esperienza anche proprio partecipativa un'immersione continua in esse la loro riproposizione il fatto che siano così generatrici di ripensamenti e di nuove letture le fanno traslare forse proprio sul piano di una come dire di un'immersività che comunque potenzialmente consentono anche al di là magari del progetto di chi e delle intenzioni di chi le aveva concretamente realizzate ma anche nel senso della contemplazione di cui parla fa vero proprio certo benissimo ritorneremo spero con un ultimo giro credo che sforeremo complessivamente un po' dall'orario complessivo ma credo che non comporti particolari problemi ci do la parola Francesco Marano grazie grazie a voi mi sentite è vero si si 10 minuti non mi ricordo più si si più o meno 10 minuti 10-10-12-13 sono una persona che tende alla sintesi diciamo e aggettare più che altro delle intuizioni per poi magari svilupparle in altre sedi che riguardano la scrittura soprattutto perché ci prendiamo ai tempi più ampli allora sì sono l'ultimo in realtà c'è sempre il rischio che qualcuno abbia già detto le cose che volevi dire però questo non è uno svantaggio perché magari le cose che volevi dire siccome le ha dette qualcun altro prima forse non sono così insensate quindi c'è una certa in effetti c'è una cosa sulla quale voglio tornare che è stata già detta prima alla quale avevo pensato già quando l'ho letto sia l'articolo sulle icone bizantine che è il libro di Paolo che è molto interessante ma non solo interessante è anche un libro molto importante perché capita al momento giusto e raccoglie una serie di input che vengono da lontano diciamo dagli anni 90 sui quali mi fermo un attimo però vorrei ricordarvi che noi oggi siamo un po' nella situazione di quel disegnatore che abbiamo visto nella stampa di Dürer che si era messo davanti alla griglia prospettica per poter fare un disegno in prospettiva che oggi noi facciamo a occhi chiusi praticamente quindi ci troviamo davanti a un cambiamento questo che sicuramente è un cambiamento epocale perché comporta una rivoluzione a un livello cognitivo soprattutto che evidentemente è stato già vissuto con quella che noi chiamiamo la prospettiva rinascimentale che comportava uno sforzo per capirla e per applicarla perché quella persona aveva bisogno di uno strumento che poi nel corso del tempo è stato abbandonato perché noi abbiamo incorporato questo modo di pensare e di vedere e quindi questo per dire la difficoltà anche in cui noi ci troviamo nel cercare di capire quello che sta succedendo intorno a noi con tutte queste tecnologie che ci aumentano la realtà ecco diciamo così una sola parola un po' vaga se volete per allo stesso tempo per chiudere altrimenti parliamo con riflessioni sulle definizioni che non è il caso di fare e allora quindi primo il primo punto rimandandomi rinviando di nuovo alla prospettiva è questo cioè avevo questo dubbio di poter considerare diciamo questa logica dell'immagine immersiva come una logica egemonica avevo questo dubbio e infatti anche Greg Cameloni l'ha avanzato no? cioè in effetti la prospettiva arriva come un momento di rottura rispetto a una visione del mondo nel quale noi eravamo immersi no? un mondo dominato dalle forze della natura o dalle divinità che il rinascimento ha diciamo ha rotto con questo vecchio modo di pensare mettendo l'uomo al centro del mondo al centro della conoscenza e quindi diciamo la nascita della soggettivazione della conoscenza parte proprio dalla prospettiva quindi ecco diciamo non me la sento di dire che queste immagini sono contro egemoniche sicuramente di rottura però e quindi forse dovremmo avere una maggiore attenzione rispetto a quelli che erano i modi con cui nel passato tecniche sono state utilizzate per rendere sempre più vera sempre più realistica un altro termine un po' scivoloso la nostra percezione è rappresentazione della realtà un realismo di cui noi abbiamo sempre ancora bisogno nonostante con forme diverse ma il rapporto che c'è tra la realtà immediata la realtà immediata è sempre basato su un rapporto di imitazione in qualche modo a questo non riusciamo a sfuggire allora nel corso di questa presentazione di Paolo io ho preso degli appunti nei giorni scorsi però adesso mi sono segnato tre quattro punti che volevo appunto esporvi o il primo era questo della prospettiva che in realtà mi sembra controegemonica anche in questo nella sua storicizzazione un altro punto è il discorso sull'inconscio ottico cioè che cosa ci fanno vedere queste immagini raccolte attraverso sì attraverso il vecchio mirino della cinepresa o della videocamera ma anche raccolte attraverso queste tecnologie indossabili che noi non possiamo controllare attraverso lo sguardo però allo stesso tempo registrano il movimento del nostro corpo uno sviluppo che c'è stato nel corso del tempo con l'avanzare della tecnologia se cominciamo a pensare all'introduzione per esempio delle macchine da presa 16 mm che potevano essere messe su una spalla hanno avviato una sorta di incarnazione della tecnologia sul corpo che via via si è sempre più perfezionata abbiamo visto i cellulari qualcuno ha parlato di corpi intranei piuttosto che di protesi e autori come Jean Rouch a partire da Jean Rouch o McDula sono stati seminari per tutto quello che stiamo vedendo in questo momento nell'ambito della produzione del film etnografico o di altre tecnologie interattive seminari perché Jean Rouch ha avviato il discorso della sine trans della partecipazione e sono parole chiave di tutto quello che noi stiamo osservando in questo in questo momento quindi però sono partito dall'inconscio ottico perché l'inconscio che cosa guardiamo quando in più possiamo dire quando poi riguardiamo le immagini che abbiamo prodotto è una domanda che io mi sono fatto ragionando perché sto scrivendo qualcosa a proposito di questi argomenti ne avrò ancora per molto perché poi anche quello che ci ha esposto Paolo quello che ha detto Paolo alimenta nuove riflessioni però mi sono interrogato un discorso dell'inconscio ottico a partire da un film che io ritengo anche questo diciamo importantissimo di rottura se non altro perché ha sviluppato diversissime riflessioni c'è stato un numero di Visual Anthropology Review nel 2016 sul quale ci sono stati diversi interventi che parlano di questo film che è L'Eriatan di Casting Taylor un film che la prima volta che l'ho visto mi ha irritato adesso non sto a farvi nell'economia del tempo che ho diciamo tutto il mio percorso di apprendimento e di riconoscimento dell'importanza di questo film però dico solo soltanto che all'inizio mi ha irritato perché mi sembrava un giochetto diciamo per spettacolarizzare una rappresentazione in realtà poi dopo col tempo io ho capito tante cose ho fatto una riflessione su me stesso riflessioni che poi a questo punto penso che dovremo fare tutti più o meno almeno nel futuro una riflessione un'autocritica sul modo di vedere l'etnografia di vedere la rappresentazione il rapporto con la realtà e soprattutto il punto di vista cioè l'introduzione del punto di vista nel film etnografico è qualcosa che comincia appunto soprattutto a partire dal cosiddetto cinema d'osservazione dalle macchine a presa 16 mm eccetera ora il punto di vista è diciamo la rappresentazione dell'idea di un soggetto di una soggettivazione della conoscenza che comunque rimane dualistica perché da un lato c'è una realtà dall'altro c'è il soggetto prima si pensava che la realtà già nel periodo positivista la realtà fosse qualcosa di oggettivo che potesse essere riprodotto poi invece abbiamo capito abbiamo capito diciamo così l'umanità gli studiosi hanno capito che questa realtà poteva essere solo rappresentata descritta è capitata da una soggettività che da la veriva da qualche angolazione diciamo così però rimaneva questo dualismo questo dualismo che diciamo ha cominciato a rubersi soprattutto grazie a un libro del 1991 di Embodded Mind la mente incorporata di Varela Thompson e Roche questo libro è stato fondamentale e naturalmente è un libro che ha le sue radici nella fenomenologia di Merleau-Ponty di Hassel di Husserl ma gli autori ai quali ho fatto riferimento già nel 2007 nel mio libro Camera Etnografica quando parlavo di poetiche inattive utilizzando questo termine inattive da inazione appunto preso da uno di questi tre autori di Embodded Mind che è Francisco Varela che peraltro non erano né filosofi né antropologi ma dei nero scienziati ma filosofati molto filosofati i quali nel loro libro del 1991 basavano molto tutte le loro riflessioni sul buddismo sul buddismo e quindi sulla rottura dei dualismi cosa che già aveva fatto diciamo in ambito occidentale Merleau-Ponty per esempio molto bene ma che ma loro attraverso questo riferimento al buddismo come devo dire mettono le basi per una conoscenza un po' interculturale anche e dentro questi discorsi dentro questi riferimenti al buddismo oltre quello della rottura dei dualismi di cui ha parlato Paolo prima e quindi della rottura dell'idea che c'è un soggetto e un oggetto che come dicevo prima persiste nel cinema l'osservazione e tutta la tradizione che conosciamo quindi nella rottura dei dualismi nella addirittura nella nell'origine codipendente vabbè cose che io dico teatro tra parentesi perché sono buddista questo a differenza di quindi capisco diciamo anche un po' dall'interno dell'origine interdipendente cioè quindi dell'intreccio di tutti i fenomeni soggetti animali umani cose e for danse come direbbe gibson cioè appigli nel mondo di ogni tipo che ci rendono direi inisolabili dal sistema in cui siamo inseriti e poi la terza cosa addirittura si fa riferimento a questo libro dei famosi tre vari da Thompson e Roche di una diciamo di una critica al concetto di sé che poi diciamo sta alla base di una critica al concetto di soggetto di soggettività di separazione di idea di un'identità unica tutte idee scusate adesso sto parlando un po' a ruota libera buttando una valanga di posto in mezzo anche per la fretta di poterle dire tutte che però sono tutte collegate spero che se ne colgano tutte le relazioni e dicevo quindi una perdita del soggetto perché nel buddismo diciamo l'idea di un soggetto separato è possibile perché il buddismo poi parla di come dico di un concetto che che dice per esempio uomo e ambiente o corpo e mente no che stanno dentro parole chiave di di prodotti come appunto Leviathan sono due ma non due cioè sono separabili concettualmente ma non sono due due ma non due quindi il dualismo non è che viene completamente rotto ma ma viene riconosciuta a livello fenomenologico di esperienza l'impossibilità di separare queste due entità e quindi c'è un riferimento al buddismo alle nazione io nel 2007 avevo fatto diciamo riferimenti molto veloci a queste cose non li ho approfonditi poi dopo scoperto diciamo una serie di letture alle quali oggi mi sto ricollegando e tra queste entrerà anche il libro di Paolo ovviamente però voglio dire il libro di Paolo e tutta questa riflessione è ramificata dentro la nostra cultura cioè non è qualcosa che c'è qualcosa le tecnologie stanno venendo dopo dopo che a livello di riflessione filosofica o di percezione o di sensazione o di intudio non so come come definire questo senso questo senso di conoscenza dopo che tutte queste riflessioni lo hanno teorizzato prospettato immaginato e adesso le tecnologie ci stanno consentendo di verificarlo rappresentarlo sentirlo materialmente questo passaggio verso una desoggettivazione del mondo che noi troviamo quando per esempio rispetto al film di Leviathan gli autori di quel numero 2016 di Visual Anthropology Review insistono molto su questa differenza e su questa coesistenza tra inquadrature disembodied e imbodied che in italiano non saprei come tradurre potremmo dire connesse al corpo di chi filma e non incorporato e non incorporato sì sì chiaramente letteralmente le tradurremmo così però diciamo praticamente sono quelle che corrispondono a una persona che materialmente si è messa in un posto e ha filmato adesso chi conosce il film Leviathan io ieri ho ordinato in questo di vederlo perché molti credo che siano qui dentro per esempio le inquadrature fatte sulla cima dell'albero maestro del peschereccio sono disembodidi cioè è stata messa là e poi non c'è più nessuno oppure quelle sott'acqua non corrispondono a un corpo eppure tutto questo forma ma una realtà una realtà possiamo dire ma lo dico in senso beniaminiano di seconda realtà perché beniamin tra l'altro è stato uno di quelli che aveva parlato della tecnologia come innervazione che è un termine che fa riferimento subito all'idea del corpo intraneo e quindi della connessione sempre più stretta tra la tecnologia e il corpo umano che si è declinata in questi anni come postumano cyborg eccetera eccetera cioè tutte diciamo sperimentazioni diciamo allo stato attuale che non sappiamo a che punto ci porteranno a cambiare la nostra vita il nostro corpo il nostro stesso corpo allora ecco perché un film come Leviathan adesso non so quanto l'avevo preso ma io penso di finire dentro un minuto perché diciamo queste cose fondamentali che volevo dire sì forse un altro paio di cose questa questa questo mondo che ci racconta che ci racconta Casting Taylor in Leviathan ecco diciamo che va visto quello che ci mostra non è tanto un inconscio ottico cioè quello che noi avremmo potuto vedere se fossimo se l'avessimo visto da quella posizione oppure ritornando a vedere le immagini eccetera ma è una sorta di film che si mette in relazione con la filosofia e quello che ci restituisce in realtà è una sorta di io lo chiamo un inconscio cognitivo cioè un inconscio ciò che noi potremmo vedere se ci mettessimo in quella posizione epistemologica per poter percepire la realtà in quel modo e qualcosa diciamo questo passaggio mi ricorda quello che scrisse McDougal nel famoso articolo su al di là del cinema d'osservazione del 71 se non ricordo male dove diceva noi possiamo scegliere di essere di fare il cinema come si dice d'osservazione ma se ci mettiamo nella prospettiva del cinema di partecipazione facciamo qualcosa in più per cui alla fine c'è sempre una scelta quella di utilizzare una tecnologia o l'altra continuare a fare il film o fare l'iDoc o usare la realtà 360 gradi che diventa un esempio peraltro proprio di questa perdita della soggettivazione perché lì non c'è più un soggetto e questo essere dentro il mondo ci consente dentro non chiamiamola non si può chiamare inquadratura dentro la visione che produciamo invisibili ma dentro proprio come il nostro corpo io non mi potrei vedere ora se non avessi questo schermo davanti che mi rimanda la mia immagine ma altrimenti sono sempre a 360 gradi se vogliamo dire diciamo usare questo termine il rapporto chiudo per dire che appunto questo rapporto con la realtà c'è sempre cioè questo rapporto tra la prima o la seconda realtà come le chiamava Benjamin ci sarà sempre perché noi abbiamo sempre bisogno di questo rapporto per cui le realtà virtuali non sono una finzione io le frequento anche per motivi di studio soprattutto per motivi di studio ma la partecipazione me le fa vivere vedo come per esempio in una realtà virtuale come Second Life che è quella che io in genere frequento questo sfondo che uso viene da lì il realismo degli avatar è fondamentale per veicolare le sensazioni l'emozione tutta la diciamo la materialità di quel mondo per cui non si potrà mai sfuggire da questo rapporto diciamo da questo rapporto di imitazione con la con la realtà gli avatar vecchi che ancora non si sono aggiornati e quindi hanno delle fattezze rozze non riescono a comunicare con gli altri vengono esclusi vengono considerati dei nabbi come dice eccetera eccetera ecco io mi fermo qua solo per aver buttato una serie di cose che diciamo sono più che altro diciamo elementi spunti per riflessioni ulteriori qua potremmo stare penso se su ognuno di questi potessimo fermarci potremmo stare anche tutta la giornata a me farebbe piacere credo che rimarremo da soli però grazie ci conforta il pensare che siamo ancora grazie grazie Francesco mi pare di capire che siamo ancora comunque abbastanza in molti c'è un gruppo compatto di persone che ci sta seguendo evidentemente interessati e questo ci fa piacere grazie per questo ulteriore ampliamento di Giro d'Orizzonte per questo richiamo agli studi alle teorie insomma proposti come dire presenti dagli anni 90 per questi collegamenti io non dico nulla di più mi sembra che Paolo adesso abbia un po' il compito gravoso ahimè di richiamare tutta una serie di sollecitazioni magari ha tenuto in frizz un po' in caldo alcune cose che voleva dire subito riguardo al collegamento fra l'intervento di Rossella e quello di Greca io gli chiedo gentilmente come dire di avere un po' di pazienza se può dissipare se può come dire dipanare tutti i fili diciamo che sono stati colto almeno la maggior parte di essi grazie ancora c'ho due fogli pieni di appunti ma direi che possiamo andare avanti un po' il motivo per cui volevo intervenire là è semplicemente che avevo trovato un punto di contatto tra le vostre due i vostri due interventi sul quale vi volevo fare una domanda per cui possiamo anche crearlo come un dialogo sì 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 ma allora adesso poi sono nate talmente tante altre questioni però vorrei partire da quella là che è fondamentalmente la natura politica colleghiamo la natura politica di queste tecnologie alla questione dei dualismi è sempre quasi impossibile affrontare da lì Hillary e Mount Everest perché occuparsene perché stanno là ma stanno là in una maniera molto più pervasiva di quello che poi alla fine ci aspettiamo cioè la mappatura ovviamente della geopolitica del digitale è quella che vediamo è quella che sappiamo ma è fenomenale quanto per esempio lo spargimento dei telefonini che producono immagini arrivi in tutti gli slum di Bombay di Delhi arrivi io ho lavorato l'autunno scorso in slum e in uno shelter a Delhi i ragazzini ti spiegano loro come fare le foto hanno una capacità di editare le immagini ma magari non sono connessi per cui non fanno parte nemmeno di quelle immagini che vediamo allora è una fase per me storica abbastanza curiosa quando forse per la prima volta negli ultimi dieci anni della nostra vita i soggetti che filmiamo ne sanno di più di fare immagini di quanto ne sappiamo noi a volte c'è una sorta di inversione che trovo estremamente interessante ma anche provocativa dal punto di vista di intellettuale e di pratiche nostre ma soprattutto ti fa anche pensare che i divari geopolitici quando applicati nel terreno digitale sono anche un po' diversi in India ci sono molte esperienze per esempio di condivisione di pacchetti dati c'è un villaggio intero compra un pacchetto dato ti risulta nelle statistiche c'è una persona che abbia un cellulare ma lo utilizzano in 200 persone che si connettano tra di loro allora mi piaceva molto il vostro intervento perché la questione della politica li prende due dimensioni una è questa ma l'altra è anche quella su con chi andiamo a parlare chi andiamo a intervenire allora per me ripeto sia i docs che virtual reality sono in genere promesse non mantenute nel senso che a me piace Bollywood mi piace il melodramma per cui il melodramma ha bisogno di controllo ha bisogno di narrativa a Bristol al Royal Anthropological Institute due anni fa io e Judith Ashton abbiamo organizzato un simposio con Marcus Banks che in occasione voglio ricordare perché è morto appena dieci giorni fa sto finendo di scrivere un obituario per lui perché era era un caro amico una perdita enorme sì e con David McDougal dove entrambi dicevano per carità ma io non voglio lasciare in mano la costruzione del significato che do alle mie immagini a qualcun altro parlando Rossella di italk interattività allora ma il discorso mio qual è? è che se la fonte del potere è accentrato qua allora quando entriamo nel contesto digitale per andare giù in termini grezzi sono due questioni che voi avete affrontato entrambe una è quella della materialità nel capitolo sulla materialità io inizio con una banale osservazione un trasloco quando facciamo un trasloco guarda il numero di cavi che abbiamo dietro io qua sono un ammasso di cavi la cloud il mondo del virtuale è grande come entere città è un'industria molto pesante l'industria virtuale e il termine virtuale stesso è stato un fraintendimento perché il fatto di parlare di virtuale è sempre stato solo una riduzione di grandezza si parlava di biblioteche che diventano una scatola di cenerini allora portiamo anche dietro tutto questo bagaglio di cose fraintese allora se possiamo giocare con se accettiamo comunque una mappatura del digitale che mette fondamentalmente le nostre informazioni nelle mani a cinque attori fondamentali Google Facebook su cinque mi pare però se noi all'interno di quel mercato andiamo a provocare un cambiamento di riflessione per chi utilizza queste pratiche questa idea del controllo Greca tu affrontavi quell'idea là proprio di come ci poniamo di fronte al controllo Heidegger diceva che è nato l'idea del mondo come immagine è un mondo che riusciamo a controllare ed è proprio lì la natura di queste immagini e allora se noi riusciamo a educare perché ci servono le immagini Vincenzo no? facciamo delle immagini ma se ci servissero a educare che in un mondo io l'ho tralasciato una una slide che adesso al volo vi voglio far vedere perché non era mi avrebbe portato a prolungarmi il paradosso secondo me nel quale viviamo che queste tecnologie immersive che lo vogliamo o no al momento hanno una fetta di mercato molto grande l'unica è non essere entrato nel virtual reality Apple perché stanno puntando augmented expanded reality Facebook però è entrato col 360 e tutto si collocano pratiche visive immersive che rompono il confine tra sé e il mondo ci buttano al centro dell'immagine nella stessa epoca adesso grazie al cielo Trump ha perso le elezioni ma in cui abbiamo passato il tempo a ricostruire muri no Sharam Khosravi mio compagno di studi e amico parla di un mondo murato nei suoi lavori ed è un mondo che abbiamo continuato a creare queste divisioni su Brennero tra Messico queste sono immagini che ho fatto io fotografie mie di Tijuana e in parallelo a quello ci muoviamo verso tecnologie che ci fondono col mondo la trovo una provocazione interessante e trovo sempre che ha senso lavorare con queste pratiche finché queste sono là è il Mount Everest ce l'abbiamo molte persone le usano e mi collego alla questione della pratica e qui tocca un po' un tasto che avete sto cercando proprio di sintetizzare due o tre argomenti nella pratica la stessa idea di separazione quando filmiamo viene riprodotta nel modo in cui filmiamo ma io non sono tecnodeterminista da questo punto perché può venire interrotta però shooting sparare capturing catturare framing inquadrare che vuol dire anche come si dice sai quando frame qualcuno incastrare abbiamo una terminologia legata al produrre immagini che è estremamente bellica estremamente verticale io letteralmente la proibisco nei miei seminari ho detto se vi sento fine là perché quella riproduce inevitabilmente un'idea di potere che per quanto la giriamo o non la giriamo ritorna alla costruzione dell'immagine quadra che ci separa dal mondo e ci permette di controllarlo per cui c'è una macro politica che si traduce in una micro politica di engagement allora di nuovo il 360 ti fa perdere il controllo che tu lo voglia o no devi perdere il controllo l'iDocs che io all'inizio è bella Rossella come me l'hai messa sta cosa perché all'inizio io ho creato credo forse il primo corso di documentario etnografico interattivo a Lisbona una vita fa 2009 che era popolarissimo tra giornalisti tra l'altro non tra antropologi venivano tanti giornalisti e e lì la cosa che tutti devono imparare lasciare perdere il controllo lasciare andare le narrative imparare a fare curatoria mettere insieme creare spazi un mondo completamente diverso molto difficile per quando vogliamo controllare il significato allora io lo vedo come una piccola officina in cui possiamo insegnare a mettere in questione il potere è un altro modo che ovviamente però e qui arriva il punto vostro bello soprattutto di Greca e di Rossella che ovviamente agisce al centro del potere agisce qua nel senso sta dove queste tecnologie ci sono e queste tecnologie a volte manco io quello fatto l'altro giorno in Belgio non ha funzionato per problemi di account registrazioni per cui è un problema questo però non vuol dire che il 360 qui mi collego sia Francesco che a Vincenzo siano necessari per far queste cose cioè il mio cercare di andare indietro nella storia Paolo Florensky parla dell'icona come tanti scrittori hanno affrontato il digitale c'è una continuità di aneliti di pratiche di logiche che si esprimono con tecniche diverse io in questo un'egemonia e qui vado di nuovo su Greca e su Francesco la vedo ne parlate in termini di rottura però l'immagine stereoscopica era riempita di motivi erotici non era l'immagine documentale l'immagine stereoscopica era per i giocattolini per i bambini di nuovo ci sono una serie di pratiche immersive che sono sempre state là l'immagine multilenticolare il volto di Cristo che diventa la Sacra Sindone sono tutte pratiche che sono state marginalizzate però ce le abbiamo sempre avute mi farebbe piacere poter chiacchierare più a lungo di quale alternativa un modello di egemonia e contro egemonia potremmo avere quello che è interessante se torniamo a Bisanzio qui torno a Vincenzo e Greca a Bisanzio nella costruzione di chiese nell'epoca bizantina c'era la prospettiva rovesciata cioè è evidente che i greci conoscevano i greci sì i greci ma non soltanto conoscevano l'esistenza della prospettiva e la rovesciavano e buttavano il punto di fuga dietro la schiena per cui non era un non sapere era un sapere rimesciato però ha una differenza enorme e poi era un sapere multisensoriale di nuovo entri in una chiesa bizantina entra solo anche a Santa Prasseide a Roma la materialità dei tasselli non permette di calcolare la distanza la defrazione della luce ti inganna per quello vale la pena di fare il parallelo secondo me ed è un ambiente multisensoriale dove però si aggiungono profumi e altre cose però c'era quella conoscenza ma veniva rigettata e veniva utilizzata al contrario però la maniera in cui si impone poi la dogmaticità Jane parla come regime scopico ovviamente di un sistema lineare che poi di fatto è cartesiano non lo so non vedo un modello però lo sto cercando anch'io perché tanto è vero la cosa dell'egemonia è una cosa sulla quale sto lavorando abbastanza di recente per cui su questo vorrei avere modo di chiacchierare molto più a lungo però voglio ritornare solo sulla continuità delle pratiche allora nella etnografia che non ho avuto interesse di discutere oggi con voi che sto facendo a Deli sulla preparazione alla morte interrotta a causa corona e chi lo sa se si riprenderà mai io seguo due concetti base la superficie cioè lavoro nell'ottica di quello che ha scritto Kirsten Hastrup non so se vi ricordate nel 92 un inno contro l'antropologia visiva dicendo che pura superficialità sono souvenir è vero ma è proprio per quello che utilizziamo le immagini perché le immagini rompono il flusso di riproduzione del sapere che già abbiamo se siamo etnografi dobbiamo scoprire il mondo là fuori abbandonando i preconcetti giusto allora e lì Francesco i nostri io non sono buddista ma pratico meditazione la meditazione insegna quello la combinazione di meditazione ed etnografia ti permette di entrare osservando senza giudicare come lo facciamo con una macchina fotografica lo possiamo fare anche con una macchina o di cinema lo si può fare anche in assenza di un 360 ma il 360 io lo vedo come un'introduzione a una scuola ad Eli io ho fatto questo lavoro per mesi dove semplicemente lascio che la telecamera mi trascini in ambiente lavorando solo ed esclusivamente di superfici non cercando di andare in profondità non attribuendo parole chiave non portando dietro quelli che sono stati la mia amore condanna io scrivo tantissimo come capite però a fine della giornata sul campo attribuiamo genere a una situazione che si colloca il giorno dopo io rivedo il genere parole chiave sono ingannevoli le verbalizzazioni sono ingannevoli le parole che utilizziamo sono ingannevoli a me piace quest'idea della superficie e per la superficie mi sono ispirato a Levinas che scrivendo però di sessualità scrive sulla carezza e dice la carezza non sa ciò che cerca questo secondo me è il gancio sulla pratica cercare di essere superficiali di essere leggeri anni fa ho scritto un testo che si chiama in difesa del thin andando contro l'idea di Clifford Geertz di attribuire un significato a tutto ciò che vediamo andiamoci piano il nostro lavoro è attribuire significati ma abbiamo tempo nel farlo per cui pratica la politica io vedo queste tre poi potrei tirare avanti però mi piacerebbe che voi ribattesse su quello che ho detto io invece che andare avanti io perché è stato molto molto piacevole sentirvi grazie Paolo io direi che non so abbiamo abbondantemente sforato siamo mezz'ora dopo il limite che ce l'abbiamo posti ci sono ancora molte persone che ci stanno seguendo io chiederei a Giada spero sia presente vorrei che si manifestasse sì sono qui grazie io direi questo se siete d'accordo verifichiamo se c'è qualcuno dei presenti che che vuole rivolgere una domanda a Paolo oppure agli altri partecipanti e poi chiederei magari a tutti i partecipanti singolarmente come dire un attimo una parola perché prendano la parola magari brevemente poi abbiamo una conclusione dopo abbiamo già un partecipante che è il direttore artistico di Alessandro Stellino che alza la mano non lo potrò mettere a video purtroppo perché gli spettatori non possono essere messi a video però gli consentirò adesso di parlare penso per un saluto ok va benissimo magari delle domande avrà anche sicuramente bene prego Alessandro mi sentite? sì Alessandro sì buongiorno ciao buongiorno a tutti io vi faccio un saluto velocissimo per ringraziarvi intanto di questo panel magnifico che avete organizzato saluto Rossella che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso e tutti gli altri Greca Paolo Francesco e Vincenzo per la loro partecipazione sono stato con voi dal primo minuto vi ho seguito con grandissima attenzione e anche molta invidia non ho un background come il vostro che appunto non avendo io un percorso o un curriculum accademico vengo dall'amore per il cinema dalla cinefilia ma ho condiviso moltissime delle riflessioni che avete fatto e non voglio rubare ulteriore tempo penso che questo incontro sia stato un arricchimento straordinario di questa edizione del festival che ha luogo in una maniera molto particolare appunto in una dimensione un po' sospesa ma anche in grado di raggiungere forse geograficamente insomma spettatori che altrimenti non avrebbero potuto prendere parte al festival e questo panel è anche un esempio di quello che si può fare insomma in un contesto di festival che forse durante quest'annata così drammatica e tragica in realtà c'era anche delle scorie positive per tutti quelli che lavorano in ambito culturale e si parla tanto di festival libri io continuo a pensare che il festival debba rimanere qualcosa di concreto che l'occasione di far incontrare le persone in una sala o in più sale o davanti a più schermi poi gli schermi possono essere di tanti tipi diversi come avete detto anche voi ma diciamo la condivisione esperienziale umana deve continuare a esistere credo prima di tutto in maniera concreta e poi essere integrata da queste forme che sono assolutamente interessanti non entro nel merito delle cose che avete detto perché sono stato qui a sentire e a imparare ovviamente avete parlato di film che amo moltissimo da Space Dogs che è un po' uno dei film più insomma di punta dell'edizione di quest'anno e anche uno dei documentari più radicali che io ho visto in questi ultimi due o tre anni e ovviamente il film di Cussing Taylor e Verena Paravell che è stato un punto chiave del mio percorso anche in ambito di programmer di cinema documentario tra Milano ora Firenze col Festival dei Popoli è sicuramente Nuoro tanto che Felice lo sa e Rossella insomma forse anche gli altri sono stati Lucien Cussing Taylor e Verena Paravell sono stati invitati da noi a Nuoro due anni fa per presentare tutta la loro opera e discutere insieme di un approccio che io ritengo assolutamente interessante perché da amante del documentario ma in realtà amante del cinema per me l'ambiguità che è al cuore del documentario di cui voi avete parlato tantissimo e nei loro lavori messa insomma ancora più alla prova e quindi io cerco sempre nella dimensione documentaria non solo etnografica o di antropologia visuale i nuovi test di rimodulazione del linguaggio ed è per questo che era interessantissimo ascoltare le vostre considerazioni e dico in particolare quelle di Paolo che ha parlato anche più a lungo perché per me il cinema io uso sempre la metafora della Fenice che risorge dalle proprie ceneri il cinema nella storia del novecento attraversa momenti di presunta morte , costanti e forse il cinema muore costantemente ma rinasce costantemente perché è anche una macchina tecnologica e quindi così come la tecnologia si rinnova si rinnovano le idee il mondo cambia e il cinema racconta questo mondo che cambia e allo stesso tempo voi avete posto una questione che per me è fondamentale negli studi che faccio che sono anche legati alla cosiddetta nuova cinefilia quindi allo studio della cinefilia dopo l'avvento del digitale e non è solo come cambia il cinema con l'avvento del digitale ma come è cambiata la spectatorship e quindi questa è una questione cruciale il cinema non esiste di per sé esiste in relazione a chi lo guarda quindi tutto quello che voi avete posto in essere in questa discussione che a me piacerebbe tantissimo approfondire quindi spero anche di magari disturbarvi in futuro rimanendo in contatto con voi e chiedendovi maggiori approfondimenti mi interessa tantissimo quindi non posso che ringraziarvi per questa gentile partecipazione e spero di incontrarvi di persona a breve da qualche parte insomma dovunque siate o di invitarvi a nuoro possibilmente nel futuro prossimo grazie ancora davvero benissimo grazie grazie alessandro anch'io ci tenevo molto come dire a ricordare come ha fatto già adesso lui insomma l'importanza di momenti come quelli dell'incontro con Lucien Castaigne Taylor e Verena Paravell che sono avvenuti due anni fa insomma hanno permesso poi a molti studenti nostri a molte persone venute anche da oltre fuori insomma fuori dalla Sardegna convenuti a nuoro a dialogare direttamente appunto con questi autori a vedere Leviathan e gli altri film a poterne proprio parlare in maniera come dire anche molto serrata molto problematica quindi mi ricordo quelle giornate come giornate di veramente notevole approfondimento e arricchimento per tutti quindi questa un'apertura del festival anche a temi più specifici ma anche come dire un interesse una sensibilità verso come dire orizzonti veramente comuni comuni al documentarismo all'idea di cinema all'amore per il cinema a quelle che sono oggi le immagini nel nostro universo che accomuna tutti noi insomma quindi ci fa riconoscere ci riconosciamo dentro appunto anche questa specifica anima anche all'anima più generale del festival Israel bene io vorrei facciamo un piccolo sforzo voglio dire continuerei almeno altre due ore ma mi rendo conto che sarebbe difficile però tuttavia non rinuncerei veramente a chiedere a Rossella a Greca a Vincenzo a Francesco un ulteriore intervento un ulteriore possibilità di parlare di interloquire e di ribadire o come dire rispondere in qualche modo alle solicitazioni o a metterne altre oppure a completare il loro pensiero Rossella grazie guarda io veramente mi sento molto arricchita da tutto questo scambio è stato molto molto bello e mi sento anche una persona che ha tantissime lacune soprattutto nelle nuove tecnologie io sono veramente penso di essere invece una una cinefila accanita e per cui per me la dimensione del cinema nell'antropologia è sempre stata pienamente al servizio del cinema come cinema anche per questo insomma penso di di aver anche lottato per per in passato per farlo accettare dalla mia disciplina accademica non è stato facile già il fatto di esserci riusciti almeno in Scandinavia a considerare un film antropologico come una pubblicazione è stato un enorme cammino che ci ha fatto spendere vent'anni di di cherelle e di 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 parlando proprio dei genomi e figuriamoci all'interno dell'antropologia che appunto è una disciplina relativamente povera dove non ci sono grandi se pensiamo all'Italia mi viene da ridere lasciamo stare però io sono anche dovuta andare un po' in esilio forse non lo so mi sono dovuta esiliare per fare questo però comunque insomma l'abbiamo fatto e l'abbiamo poi portato di nuovo in circolazione perché comunque questa nostra disciplina è veramente molto internazionale e molto poliglotta per cui io mi fermo qui io sono io mi sento onorata di essere stata in questo panel appunto non avendo tutta quella l'espertise che Paolo ci ha portato ma vedo anche poi voi siete molto più esperti di me in queste che sono le nuove tecnologie però quello che posso promettere è che adesso me ne interesserò di più e per esempio questa idea del 360 gradi che ho sperimentato una volta in un'installazione fatta da un grandissimo musicista Brian Eno che ad Amsterdam è stata veramente un'esperienza straordinaria in cui i suoni diventavano forme e li potevi toccare nello spazio è vero che ci sono delle potenzialità enormi però appunto io rimango comunque una persona politica e penso che quello che tu dici Paolo nel libro parlando della moltitudine e per cui tutta l'analisi che fanno Negri e Birro e gli altri è fondamentale in questo momento perché ci sono delle potenzialità enormi che sono planetarie come tu ci hai detto Paolo però è anche vero che non dobbiamo illuderci che questo sia un passo così facile a livello della fruizione per cui torno di nuovo al discorso della fruizione per cui comunque dello scambio della condivisione con chi condividiamo e come condividiamo e mi fermo qui però ecco vi ringrazio tantissimo e ringrazio anche gli spettatori che sono stati molto molto pazienti in queste ore grazie vorrei come dire anche in qualche misura chiedere se possibile infatti una domanda va bene prima di Greca chiediamo a dopo no diamo spazio a una domanda poi va bene Greca puoi aspettare un attimo prima di prendere la parola facciamo dopo come preferite diamo spazio alle domande credo ok allora mi arriva una domanda da Francesco Dragone per Paolo appunto Paolo Rossella e Greca hanno sollevato la questione del linguaggio possesso e tra virgolette catture eccetera e forse il fatto che sia una novità e che le regole vadano ancora scritte sconvolge lo spettatore e forza il corpo e la mente a reagire quando si fluisce di 360 o di virtuali alti ci sarà un momento in cui abitueremo in cui ci abitueremo e quindi ci destabilizzerà meno questa è la domanda posta dopo ripetela scusami non l'ho capita bene ok la domanda finale la domanda è ci sarà un momento in cui ci abitueremo e quindi ci destabilizzerà meno inteso come penso voglio intendere appunto il coinvolgimento che avviene durante la visione di documentari film appunto video in realtà aumentata ecco va bene lasciamo questa domanda in mezzo non so se ce ne sono altre no per ora è questa va benissimo allora direi che magari siccome è chiamata in causa anche greca può eventualmente come dire provare a far rimbalzare anche lei questa la sua risposta nel quadro del nostro dialogo prego sì no in realtà anche io ho trovato tutta la discussione molto interessante che arricchisce si potrebbe continuare ma secondo me si potrebbe continuare nella vecchia maniera davanti a un bel pranzo e un po' di vino tutti insieme la discussione probabilmente prenderebbe di certo un altro taglio credo che in realtà ci sia una specie di punto nodale che è emerso anche da quello che diceva Stellino il cinema in relazione a chi lo guarda è quello che dice Rossella e Paolo chi sono i fruitori e Paolo dice però 360 è una promessa non mantenuta è una promessa non mantenuta perché è capitato anche a noi per le Asa quando poi questa questo tipo di tecnologia lo devi paradossalmente far vedere non qui in questo momento in questa realtà fisica diciamo attraverso un visore ma lo devi far vedere in un'altra forma di realtà quindi come per esempio siamo adesso in videoconferenza e allora lì non funziona è necessario che ci sia comunque una forma di realtà di fisicalità per far funzionare la realtà aumentata la realtà virtuale altrimenti le due cose non funzionano è un problema forse di tecnologia ed è il motivo per cui mi ricollego alla domanda che ha fatto Dragone forse è anche perché il tipo di tecnologia non è ancora sufficiente quindi come ha detto Paolo rimangono pratiche marginali che non riescono a emergere è questo un problema di tecnica oppure è un problema che richiede comunque uno sforzo da parte nostra a cambiare a fare quello che poi è successo nel passaggio dal bizantino dall'epoca bizantina diciamo al rinascimento lì c'è stata una rivoluzione totale ma una rivoluzione di pensiero in cui dei concetti di tipo filosofico sono stati reinterpretati alla luce di nuovi presupposti nuovi assunti quindi forse è anche questo lo sforzo di rivedere anche questa tecnologia come utilizzarla come riutilizzarla anche rispetto a quello che ha detto Rossella non so sono tutte domande che mi vengono in mente perché è chiaro che parliamo di realtà virtuale ma poi è una realtà concreta e qui crea una sorta di Simo in cui non sai a quale presenza per tornare a quale presence ci stiamo riferendo a questa qui a quella che siamo tutti connessi ma con una dimensione completamente diversa quindi non so credo che ci sia margine per parlare per riflettere ancora di più ma anche per far appunto magari sedimentare sì sedimentare esatto grazie 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 a te Greca di questo ulteriore arricchimento Vincenzo ecco qua sì grazie anche io mi associo agli elogi che stanno facendo anche gli altri perché insomma questa è la dimensione dialogica giusta che ci vuole quando si parla seriamente delle cose noi abbiamo questo forse proprio noi no ma insomma mediamente c'è questa tendenza a tenersi per se stessi o per i propri ambiti come dire più o meno ristretti quelle che sono le proprie idee posizioni ricette e così via si pensa poi a trovare forme di socializzazione che almeno questa stramaledetta presenza del covid 19 ci ha impedito come dire di perpetrare comunque oggi non abbiamo più scuse voglio dire non solo lo sappiamo teoricamente non solo sappiamo la pratica che possiamo lavorare in questa dimensione multidimensionale e oggi voglio dire qualcuno al di fuori ritorna il discorso sul potere che come dire è il convitato di pietra dunque in questa sessione di oggi questo panel insomma c'è qualcuno che ci obbliga a fare delle cose che noi sappiamo benissimo che dobbiamo fare che potremmo fare e che non facciamo mai questa è una grande evidenza a me sembra che non ci sia stata conclusione migliore che quella che ci abbia offerto Paolo Favera su questo insomma il discorso sulla superficie è fondamentale perché la superficie è veramente la metafora di quelle che lui chiamava il sentiero che si deve aprire alle infinite modalità sensoriali di convergere nel discorso e nella narrazione della realtà comunque la si voglia definire la realtà le realtà la narrazione la realtà ha bisogno e qui gli etnografi dovrebbero essere padroni della situazione di questo approccio prolungato superficiale fino a quando in questa realtà non si scorge qual è quella crepa giusta per cercare di arrivare all'interpretazione e questo lo si fa soltanto se si è in grado di scorgere i diversi sentieri che confluiscono attraverso le immagini no a questo come dire a che danno attraverso le immagini i sentieri e le immagini voglio dire la possibilità di scorgere queste crepe e di scendere poi finalmente in profondità è quello che insegna i miei studenti tra l'altro c'è qualcuno i miei ex studenti soprattutto anche credo collegati quest'oggi e ringrazio tutti quelli che si sono collegati con noi ovviamente è giustissimo quello che si diceva è questa profondità che però si manifesta in superficie è la superficie che dà il senso della profondità ed è il senso delle relazioni individuabili in superficie che ci fanno scendere in profondità ecco la fotografia è nata così presentando una superficie sulla quale proiettare la complessità la prima foto è questa e vi ringrazio tutti è stata una bellissima esperienza grazie grazie a te Vincenzo al contributo che hai dato la fotografia è nata così una carezza o perlomeno una superficie che si è fatta carezzare dalla luce vabbè lasciamo stare perché qui le suggestioni diventano molte Francesco grazie 10 secondi perché veramente tardi abbiamo perso diciamo il 50% di lettatori però non ho niente altro da dire che forse questo dovremmo impegnarci di più escludo Paolo perché sta già facendo impegnarci di più a passare dalla teoria alla pratica come diceva Rossella dobbiamo imparare a usare queste tecnologie gli ostacoli dove sono ci sono ostacoli personali che a volte riguardano i tempi che il tempo che noi abbiamo a disposizione per poter fare tutto soprattutto in un paese che diversamente dalla Norvegia dove vive Rossella è praticamente contrario non direi indifferente alla valutazione dei film e dei prodotti multimediali nella all'interno dell'accademia ma poi c'è un altro ostacolo ovviamente che è quello di dei finanziamenti per comprare queste attrezzature che sono molto costose io ho fatto una lista di cose che probabilmente nei prossimi mesi saranno acquistate tra cui appunto a 360 gradi ho fatto prendere 6 visori VR tutto quello che serve ci sono dei costi molto alti non tanto nell'apparecchiatura in sé ma come qualcuno diceva prima e non mi ricordo chi mi pare greca dei costi di stoccaggio di queste immagini perché sono molto pesanti e hanno bisogno di hard disk pesanti di computer molto performanti che costano più di quello che noi possiamo in genere permetterci quindi diciamo io vorrei chiudere con questo augurio che noi possiamo passare dalla teoria alla pratica cosa complicata e soprattutto a quelli che ci hanno seguito grazie grazie anche a voi finirei Paolo se vuoi dire qualcosa anche tu alla fine per completare questo quadro no perché possiamo andare avanti così ma no veramente vi volevo ringraziare grazie Felice è stato un grandissimo onore avervi lì ad aver letto cose mie e avermi ascoltato oggi ho sentito tante quello che a me piace in questa conversazione quello che nel piccolo sto facendo cercando di fare forse perché sto invecchiando anch'io è di tenere una bella linea di continuità tra il nuovo e il vecchio cioè non buttare via tutte queste pratiche vanno reincorporate il lavoro col GPS per me è licitazione va riportato indietro su metodi possiamo fare tante cose connettendo il nuovo al vecchio cioè entrare anche in questi spazi non vuol dire necessariamente buy into the novelty no c'è una bellezza nella continuità e credo che questa è una cosa che tutti abbiamo messo in luce oggi io la chiuderei su quella cosa lì e credo che è quello che dobbiamo tessere l'etnografia è anche un metodo che può ispirare molto al di fuori io ho fatto come Francesco tanti di voi tanto lavoro come sapete nell'arte in contesti di video installazioni teatro l'etnografia è fenomenale l'etnografia è un metodo meditativo c'è tanto da imparare e forse sì questa è la nota conclusiva una questione che io mi chiedo sempre quando lavoro con studenti è un po' io ho passato anche da tennista il mio allenatore diceva sempre Paolo io su mille tennisti ce n'è uno che può diventare decente due che diventano maestri gli altri che vanno a fa e allora lui mi diceva io mi pongo sempre il problema di che cosa lascio tramite il tennis a persone che poi vanno a fare altri lavori questa è una domanda che io mi pongo oggi molto spesso quando lavoriamo con le immagini così quando cerchiamo di decentralizzare la politica il controllo secondo me diamo anche un contributo politico per le persone politico esistenziale nel saper stare nel mondo nel rispettare gli altri nel rispettare l'ambiente quando tu vedi che tu sei il mondo e non lo bruci questa è una cosa bella dove vive Rossella dove vivevo io in Svezia con altri lati negativi per carità ma l'idea che fai parte di un contesto non sei tu non sei individuo staccato allora se noi riusciamo a catapultare dentro alla pratica visiva questo messaggio rendiamo possibile anche a chi non diventerà regista antropologo autore scrittore magari di trarne una lezione da applicare in un altro campo a me è arrivato dal tennis lunga lunga chiamata lunga vita all'etnografia oltre che al tennis allora per tutti noi allora non mi resta che chiudere ringrazio veramente di nuovo Paolo Favero per il contributo che ci ha dato ringrazio infinitamente Rossella Ragazzi Greca Meloni Vincenzo Esposito e Francesco Marano per aver animato questo dialogo e per averlo poi appunto fatto riverberare su tutti noi presenti e su tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci un ringraziamento ancora ad Alessandro Stellino all'Istituto Etnografico Superiore di Nuoro per aver dato come dire per aver inglobato per questo riconoscimento come dire di appartenenza che noi sentiamo in maniera anche molto come dire molto orgogliosa con con l'esperienza di Israel grazie a Giada veramente grazie tante a Giada di Vulsi per il supporto non solo tecnico ma anche umano che ha dato a questo nostro incontro di stamani penso sia stata una bella mattinata intensa di lavoro e non mi resta che salutarvi tutti e naturalmente di darci un appuntamento se ce lo vuole insomma voglio dire ma altre circostanze in altre situazioni per poter approfondire ramificare intrecciare ancora di più questo discorso benissimo a Cagliari volentieri a Cagliari a Nuoro in tutto il mondo a Troms insomma voglio dire a Matera a Salerno in qualsiasi luogo possibile compresa Anversa insomma dove immagino faccia freddo adesso grazie no grazie ancora grazie ancora a voi per la collaborazione grazie a tutti i presenti mi dispiace soltanto non averli potuti fisicamente come dire visivamente come dire immersivamente farli partecipare ma abbiamo sentito la loro presenza in ogni caso va bene grazie a tutti a presto grazie a tutti a tutti grazie a voi arrivederci arrivederci grazie a Ignazio Figus chiaramente per tutto il supporto che ha dato a tutto questo nostro incontro e a questa nostra attività e a tutto lo staff chiaramente dell'Istituto Etnografico Superiore di Nuoro a voi grazie a presto grazie a tutti ciao ci risentiremo spero prestissimo grazie a tutti 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 grazie a tutti